... Uno si è a cantare quando fa così giorno, quando fa così... ... se si telefona di un'one, immagino di un'one, di un'one di 20 anni... ... io devo cercare... ... io lo so... ... brucia Roma, brucia Roma... ... e il Parlamento... ... beh è una storia davvero incredibile quella dei pompieri che poi si scopre essere piromani... ... è un po' come mettere a capo dell'Avis il conte Dracula... ... è una storia che può far sorridere in realtà grottesca e drammatica allo stesso momento... ... ma non bruciano soltanto alcuni boschi e alcuni pezzi di città... ... in realtà brucia anche qualcosa al governo... ... tant'è che è dovuto intervenire proprio, lo abbiamo detto dai giornali di oggi... ... proprio ieri direttamente il presidente Mattarella... ... Mattarella lo abbiamo imparato a conoscere in questo suo mandato presidenziale... ... è persona che parla molto poco... ... però se si è sentito in dovere di intervenire vuol dire che qualcosa davvero stava accadendo... ... parliamo del caso Minniti che ieri non ha partecipato al Consiglio dei Ministri... ... in polemica con Graziano Del Rio... ... è intervenuto il capo dello Stato che ha, come dire, incoronato il lavoro fatto fino ad oggi da Minniti... ... tutto a posto? Tutto finito? L'incendio è stato spento? Non lo so, lo vedremo tra poco... ... e ne parliamo con i nostri ospiti, buongiorno a Valentina Castaldini... ... portavoce del nuovo centrodestra, benvenuta, buongiorno... ... le faccio vedere, mettiamoci qua a favore di camera... ... ieri uno è caduto eh... ... e ieri, ah si è accorta sì... ... ieri c'è stato qui una sorta di attentato agli ospiti, grazie... ... andiamo a vedere ieri la prima pagina sobria del quotidiano diretto da Vittorio Feltri... ... dedicata ad Alfano... ... vedi che ci sono... ... arriva, arriva... ... non c'è ancora la pagina di Libero? ... vabbè la vediamo dopo Urgu, non ti preoccupare... ... qua diamo Urgu, un applauso a Urgu... ... è un segno divino evidentemente... ... chissà cosa c'era scritto... ... eh? ... sì? ... gliela faccio vedere dopo intanto... ... sono impassiente... ... si accomodi... ... Gea Schirò, deputato del Partito Democratico... ... buongiorno... ... della Commissione Politiche Comunitarie... ... benvenuta e bentornata... ... buongiorno a Peter Gomez... ... direttore del Fatto Quotidiano Online... ... che vediamo collegato... ... dalla sua... ... dalla sua sede... ... e sedia vuota... ... per l'ospite che si fa desiderare... ... e l'ospite è Augusto Minzolini... ... giornalista ex parlamentare di Forza Italia... ... abbiamo notizie di Augusto Minzolini? ... che sta arrivando Minzolini... ... va bene, prepariamo allora... ... è al trucco forse... ... importante... ... è al trucco? ... no non lo so... ... era una battuta... ... è dal parrucchiere? ... è dal parrucchiere? ... era una battuta... ... dicono di noi... ... serietà... ... serietà, serietà... ... torniamo subito... ... al caso politico... ... del giorno... ... Peter Gomez... ... ci aiuti per cortesia... ... a capire... ... lo dicevo... ... in apertura... ... l'intervento di Mattarella... ... del capo dello Stato... ... solitamente persona appunto... ... misurata... ... nei suoi interventi... ... nelle sue parole... ... ma anche proprio dal punto di vista istituzionale... ... intende il suo mandato... ... in modo molto terzo direi... ... senza... ... la partecipazione che altri capi di Stato... ... hanno avuto... ... penso a Napolitano... ... un ruolo molto più attivo... ... ecco... ... l'intervento di Mattarella... ... come dire... ... ha rimesso in sicurezza il governo... ... sul caso Miniti... ... è questa la chiave di lettura... ... che possiamo dare? ... c'è Gomez, vero? Peter? Eccomi, scusate... ... ma secondo me il governo... ... non ha mai rischiato nulla... ... da questo punto di vista... ... il punto è molto semplice... ... secondo me... ... dal mio punto di vista... ... la questione è molto semplice... ... l'Italia è uno Stato sovrano... ... ha tutto il diritto... ... di mettere le regole... ... che più gli aggradano... ... rispetto a chi... ... a proda nei nostri porti... ... dall'altra parte... ... è perfettamente ovvio... ... che le organizzazioni non governative... ... le quali non lavorano solo nel mare... ... ma lavorano anche in territori di guerra... ... non vogliono avere... ... rappresentanti delle forze dell'ordine... ... di qualsiasi colore... ... o militari... ... con loro... ... perché poi... ... se si trovassero in zone di guerra... ... potrebbero essere accusati... ... di non essere più... ... delle organizzazioni non governative... ... ma essere delle organizzazioni governative... ... è esattamente quello che succede... ... con Gino Strada... ... ed è emergency... ... nessuno entra... ... negli ospedali di emergency... ... se è armato... ... perché la neutralità è essenziale... ... detto questo... ... ribadisco... ... trovo assolutamente logico... ... che uno Stato sovrano... ... possa dire... ... perfetto... ... le regole sono queste... ... vuoi starci... ... se non ci stai... ... nei nostri porti non entri... ... ultima considerazione da dire... ... tutta questa confusione... ... nasce dalla decisione dissennata... ... di fare a meno di Mare Nostrum... ... perché noi abbiamo finito... ... per delegare a dei privati... ... un compito che doveva essere svolto... ... per forza dal pubblico... ... non solo italiano ovviamente... ... ma europeo... ... Schirò... ... c'è stato questo scontro al governo... ... la notizia... ... è evidente... ... perché se no... ... non si spiegherebbe... ... perché il capo dello Stato... ... si è sentito di intervenire... ... su questa vicenda... ... ONG... ... Miniti avverte... ... Rigorio me ne vado... ... Mattarella lo blinda... ... ma quella dichiarazione di Miniti... ... non credo sia virgolettata... ... infatti non lo è... ... perché... ... sono tutti retroscena... ... sono tutti retroscena... ... però non si capisce... ... se no perché Mattarella... ... si sarebbe sentito in dovere di intervenire... ... ma è possibile... ... secondo me la tranquillità... ... cioè la tranquillità... ... la dichiarazione del Presidente della Repubblica... ... è rivolta all'esterno... ... e non al governo... ... cioè non ha il bisogno... ... il Presidente della Repubblica... ... non ha bisogno di parlare... ... attraverso i giornali... ... a due ministri di un governo italiano... ... o al Presidente del Consiglio... ... la dichiarazione del Presidente della Repubblica... ... era rivolta al mondo esterno... ... ai giornali... ... ai diversi orientamenti... ... per dire tutto è tranquillo... ... secondo me quel problema non c'era... ... e le dichiarazioni di Del Rio... ... e il grande lavoro fatto da Miniti... ... sono assolutamente complementari... ... è un problema come diceva Gomez... ... che non è mai esistito nel governo... ... beh non so se lei dice complementari... ... in realtà Del Rio anche oggi... ... come abbiamo visto... ... anche dalla lettura dei giornali... ... e non solo... ... Del Rio ha una posizione... ... diversa rispetto a Miniti... ... però vi facciamo risentire... ... ma mi permette di dire una cosa... ... secondo me ecco... ... se ci può essere una differenza... ... è sulle prerogative... ... cioè Del Rio puntualizza... ... le prerogative del suo Ministero... ... insomma un fatto di dialettica interna... ... ma non sullo scopo finale... ... quale sia... ... diciamo il ruolo... ... dell'Italia... ... insomma non mi sembra questo il grande... ... i problemi sono altri... ... se vuole... ... ne abbiamo... ... ora lo vediamo... ... io vi faccio però risentire soltanto... ... cosa ha detto uno dei ministri... ... del governo Gentiloni... ... Orlando... ... ospite ieri a Inonda... ... proprio su questa assenza... ... di Miniti dal Consiglio dei Ministri... ... e sulla differenza tra Miniti e Del Rio... ... vediamo... ... che comunicativamente noi dobbiamo stare molto attenti... ... ad evitare una serie di banalizzazioni... ... la prima è che far passare l'idea... ... che siamo sotto in una situazione di emergenza... ... non è vero che c'è un'invasione... ... che non ha precedenti nella storia... ... come invece appare spesso... ... leggendo i giornali... ... o guardando la televisione... ... evitare il binomio sicurezza-immigrazione... ... come se gran parte dei fenomeni... ... dell'insicurezza nel nostro paese... ... siano risolvibili al tema dell'immigrazione... ... cioè se domani chiudiamo i flussi... ... l'Italia non ha più problemi di sicurezza... ... non è vero purtroppo... ... evitare anche un'altra banalizzazione... ... che è quella che in questi ultimi giorni ho visto... ... che è quella di dire... ... siccome ci sono delle ONG... ... che probabilmente... ... e poi dobbiamo capire il perché... ... non si sono comportati... ... in modo diciamo... ... deontologicamente specchiato... ... e forse anche con... ... delle responsabilità penali... ... allora in generale... ... è vero che tutte le ONG svolgono questa funzione... ... va bene... ... distingo per carità... ... possono sembrare Castaldini... ... semplicemente delle piccole sfumature... ... però... ... per chi come dire... ... è attento al dibattito... ... su come affrontare la questione dell'immigrazione... ... queste non possono... ... come dire... ... essere derubricate... ... semplicemente a piccole sfumature... ... no... ... e soprattutto... ... io credo che l'immigrazione... ... non sia un teme estivo... ... cioè... ... c'è... ... una responsabilità politica... ... che è quella di provare a pensare da qui... ... a vent'anni che cosa accadrà... ... e anche... ... come dire... ... certe parole... ... che la sinistra ha sempre utilizzato... ... storicamente utilizzato anche per... ... così... ... per la campagna elettorale... ... e provando anche a banalizzare... ... delle paure... ... dei timori... ... senza dare una risposta concreta... ... questo è un problema politico... ... grave... ... cioè... ... come dire... ... quando... ... Alfano che... ... lei è la portavoce di Alfano... ... ma questo è il punto... ... Alfano che fa... ... Alfano che fa... ... nel senso qualcuno dice... ... Urgo in particolare... ... in molti dicono... ... ma chi l'ha visto in questa fase? ... cioè... ... in questo momento sta incontrando... ... ha un incontro importante... ... sul futuro della Libia... ... insomma io credo che ci siano... ... non era ieri quello... ... oggi ci sarà un incontro fondamentale... ... oggi c'è stata un'intervista... ... secondo me molto interessante... ... da leggere sui dieci punti... ... che si cerca di affrontare... ... ma qualcuno... ... non voglio fare il polemico... ... qualcuno dice in questa fase... ... è ministro... ... sono due anni... ... sono due anni che si stava cercando di... ... a fare gli accordi con la Libia... ... ci va il ministro degli interni... ... perché il primo... ... anche il ministro degli esteri... ... c'era anche lui... ... e beh insomma... ... anche perché qua sta incontrando... ... sta facendo cose fondamentali... ... e sono due anni che si stanno facendo... ... lavori diplomatici... ... c'è quasi uno... ... tu ti pensa che appunto... ... il tema dell'estate è la Libia... ... per cui così... ... parliamo di la Libia... ... no... ... insomma... ... non è che i politici... ... abbiano voglia di così... ... di parlare sui giornali... ... c'è anche un aspetto importante... ... di lavori diplomatici che si fanno... ... e anche internazionali... ... e anche internazionali... ... l'avevo... ... mentre lo stavate microfonando... ... sto dicendo... ... c'è Minniti... ... no... ... è Minniti... ... va benissimo lo stesso... ... anzi... ... no meglio anzi... ... come sta? ... assomiglia un po' oggettivamente... ... no meglio no... ... la trasmissione però iniziava alle 11... ... no... ... con carità... ... è estate... ... e quella lì è una porta girevole... ... però no... ... iniziava alle 11... ... per carità... ... tutto bene no? ... vabbè... ... allora... ... prego Castaldini... ... no... ... giusto per dire... ... e su questo tema... ... è vero... ... è giusto non semplificare... ... non raccontare... ... che tutte le ONG... ... non fanno il proprio dovere... ... però ricordo a tutti... ... che il caso ONG è nato da... ... un'inchiesta importante... ... è nato dalla questione... ... di un procuratore... ... che diceva che forse qualcosa... ... di illegale c'era... ... e che era giusto indagare... ... allora io credo che in questo momento storico... ... anche su un tema importante... ... come l'immigrazione... ... fare un lavoro serio... ... senza come dire... ... farsi trascinare dagli eventi... ... ma provare a capire... ... chi sta sbagliando... ... chi sta lavorando... ... e anche... ... come dire... ... il tema... ... delle forze dell'ordine... ... su le imbarcazioni... ... io credo che sia... ... anche a tutela... ... di chi fa... ... un lavoro impegnativo... ... come l'ONG... ... cioè non è solamente... ... il controllo... ... non possiamo aver paura... ... nel 2017... ... delle divise... ... le divise sono a tutela dell'ONG... ... in una situazione di guerra... ... e di rischio personale... ... per cui... ... tutta questa questione... ... io credo che venga sollevata... ... con un po' di superficialità... ... oggi... ... bisogna fare un lavoro serio... ... bisogna fare un lavoro serio in Libia... ... bisogna fare un lavoro serio di controllo... ... e poi... ... c'è il tema... ... dell'integrazione... ... che... ... nessuno lo vediamo... ... perché ci sono poi episodi... ... che andremo a raccontare... ... che sono avvenuti anche in queste ultime ore... ... in diverse parti d'Italia... ... però... ... il contributo di Minzolini... ... che è un acuto giornalista... ... e osservatore... ... delle cose che accadono... ... le parole di Mattarella... ... dalle quali siamo partiti... ... di grande apprezzamento per l'impegno del ministro Miniti... ... in merito al fenomeno migratorio... ... che cosa segnano? Cioè... ... perché un uomo come Mattarella... ... ha ritenuto importante spendersi in questa vicenda? A me quello che colpisce... ... è che su un tema così delicato... ... debba intervenire Mattarella... ... perché ti dà l'idea... ... che all'interno del governo... ... ci siano due posizioni diverse... ... io non lo so... ... io credo... ... cioè noi non abbiamo idea... ... diciamo del momento drammatico... ... Orlando può dire quello che vuole... ... ma almeno nell'immaginario... ... io dico nella realtà... ... ma almeno nell'immaginario... ... basta vedere quello che è avvenuto... ... nelle ultime elezioni amministrative... ... questo è il primo tema... ... su cui si concentra... ... l'attenzione dell'opinione pubblica... ... l'idea che tu hai due linee diverse... ... e addirittura... ... non hai diciamo un responsabile... ... perché l'assurdo è che tu hai... ... da una parte il ministero dell'interno... ... ma su un tema che dovrebbe essere un'emergenza... ... e quindi dovrebbe essere... ... c'è un grande coordinamento... ... c'è un altro ministro che mette la bocca... ... la guardia costiera... ... tu capisci che è assolutamente... ... che dipende invece dalla difesa no? ... sì ma... ... no no no... ... dai trasporti... ... dai trasporti... ... ma tu capisci che su una cosa del genere... ... tu hai un disorientamento... ... che anche rispetto al rapporto... ... che tu puoi avere non so con la Libia o con l'altro... ... dai l'idea di un paese... ... che non ha le idee chiare... ... e questo secondo me è un danno superiore... ... rispetto a tutto quello che noi immaginiamo... ... l'intervento di Mazzarella... ... che forse era... ... perché Gomez ha ragione su questo... ... no Minzorini... ... perché sorride Gomez? ... sì no... ... ha perfettamente ragione... ... però Augusto che è ancora un osservatore sicuramente più acuto di me... ... appunto perché si rende conto di come l'opinione pubblica sia turbata da questa situazione... ... sa anche che le elezioni sono fra sei mesi... ... insomma tutto questo gruppo è terrorizzato perché... ... per dirla in soldoni... ... perché è passato magari sbagliando come quelli che dicono... ... dicevano avanti tutti... ... e si trovano di fronte un centrodestra che ha avuto una posizione diversa... ... che in questo momento sta raccogliendo... ... lo dicono tutti i sondaggi... ... proprio sull'immigrazione... ... tanti consensi... ... perché poi la gente si è dimenticata di come andavano le cose... ... quando governava il centrodestra... ... quando si sono fatte le... ... ve la ricorderete quella sanatoria da 700 mila persone... ... e il tema dell'immigrazione è diventato semplicemente tema da campagna elettorale... ... un po' come nel 2001... ... e Augusto se la ricorderà bene... ... la campagna elettorale che sancì la vittoria di Berlusconi nel 2001... ... fu basata tutta sulla sicurezza e sulle rapine in villa... ... eccetera... ... perché era un tema su cui il centrodestra era tradizionalmente forte... ... quindi il governo cerca di recuperare Menniti e il volto spendibile da questo punto di vista... ... poi è vero che danno questa sensazione di essere divisi... ... arriveranno nel 2018 e poi si vedrà le elezioni... ... come sono messi con questo tema... ... il centrosinistra corre rischio molto... ... si finisce a Mizzolino e poi schierò su... ... no no... ... ha ragione Orlando probabilmente... ... l'invasione quest'anno non c'è... ... non è diversa dall'anno scorso... ... però bisogna pensare che questo fenomeno andrà avanti per 25 anni... ... e quindi a botte di 150-200 mila all'anno... ... il problema vero non sarà quest'anno reale... ... quest'anno sarà solo percepito... ... ma fra tre o quattro anni non sarà più percepito... ... se si va... ... comincerà a diventare un problema reale... ... però Mizzolini ricordava poco fa... ... la questione anche delle competenze... ... cioè se c'è da parte c'è Guardia Costiera... ... che dipende dal Ministro dei Trasporti del Rio... ... dall'altra parte la gestione della chiusura... ... dei porti e il codice dello NG... ... se c'è uno scontro all'interno del governo... ... anche sulle competenze... ... il risultato è del Rio che dice... ... non sono contro il codice Miniti... ... ma se bisogna salvare vite... ... serve la nave più vicina... ... quindi... ... io però ecco... ... ritornando alla questione delle elezioni... ... cioè poi io cerco sempre di... ... raffrontarmi in una logica politica... ... questo ti mostra anche... ... tutto il dibattito che c'è stato... ... votare prima... ... votare dopo... ... che sarebbe stato necessario... ... diciamo votare prima... ... perché questa supplenza del Presidente della Repubblica... ... significa che la legittimazione... ... di questo Parlamento... ... e di questo governo... ... su questi temi... ... è talmente... ... diciamo... ... al di là del tempo... ... perché partiamo dal 2013... ... che non ha più... ... diciamo... ... la contezza di qual è la realtà... ... in cui opera... ... questo è il punto... ... gli errori in politica... ... alla fine si pagano... ... quando si è andata avanti così... ... per inercia... ... quindi questa instabilità è frutto delle mancate elezioni... ... ma nel senso che... ... se tu avevi una forte legittimazione già ora... ... tu avresti avuto un ministro dell'interno che potrebbe... ... avevi probabilmente un governo che aveva una chiarezza... ... perché... ... non è che la politica è così... ... se tu fai delle elezioni... ... dai un programma... ... e su un programma sei investito dai cittadini a operare... ... allora... ... noi siamo talmente lontano nel tempo... ... in cui la supplenza di Mattarella... ... ripeto la supplenza di Mattarella... ... perché Mattarella deve intervenire per impedire... ... che ci siano le dimissioni del ministro dell'interno... ... ti dimostra... ... che probabilmente noi stiamo in una fase inerziale... ... in cui tutti possono dire quello che vogliono... ... e probabilmente all'interno di tutti... ... c'è anche chi fa campagna elettorale... ... Schirò... ... appunto... ... al contrario di Minzolini non vorrei fare campagna elettorale... ... ma io non sto facendo campagna elettorale... ... mi penso che sia stato chiaro... ... se noi consideriamo supplenza da un governo... ... una frase di tre righe del Presidente della Repubblica... ... in sette mesi... ... mi sembra una buona supplenza... ... io ci metterei la firma... ... rispetto non so all'ultimo governo... ... a Berlusconi... ... e se sono rischiate le dimissioni del ministro dell'interno... ... se questo ho letto sui giornali... ... beh beh... ... secondo me le dimissioni non ci sono state... ... avevamo detto... ... ho parlato forse di prerogative... ... se c'è una differenza insomma... ... sulla visione... ... ma il punto è un altro... ... lo diceva prima Gomez... ... non so... ... il cara ricordando... ... come si dice... ... quando sono stati accettati i 700 mila migranti... ... il cara di Mineo che è stato aperto da Maroni... ... cioè questa situazione... ... questa è campagna elettorale... ... no vabbè... ... io sto parlando di adesso però... ... è iniziata molto prima... ... altra cosa... ... anche giocare con le paure... ... il problema dei migranti... ... già dal 2003 veniva chiamata tratta... ... e ci sono le indagini... ... delle procure siciliane... ... mai arrivate all'antimafia... ... che sono sui morti nel Mediterraneo... ... e queste cose... ... all'epoca veniva chiamata tratta... ... perché non c'erano state le primi primavere arabe... ... e non veniva riconosciuto il fenomeno... ... quindi non dobbiamo fare allarmismi... ... per impaurire la gente... ... non dobbiamo giocare con le paure delle persone... ... affrontare davvero con una visione... ... da qui a vent'anni... ... e affrontando i problemi... ... noi adesso siamo concentrate sulle onde... ... il tema della paura... ... ora lo riprendiamo... ... perché il tema della paura... ... ci sono altri strumenti... ... è purtroppo merce elettorale... ... vi facciamo vedere che cosa è accaduto a Napoli... ... a Napoli... ... a Napoli... ... a Napoli... ... no perché poi... ... tutto si scontra anche con il racconto... ... di una quotidianità... ... che non soltanto noi raccontiamo... ... ma soprattutto che i cittadini vivono... ... la nostra Emanuela Vernetti... ... è andata a Napoli... ... e vediamo che cosa è accaduto... ... di questi militari... ... parliamo di militari... ... con la loro jeep e tutto... ... accerchiati... ... circondati da un gruppo di migranti... ... vediamo... ... un uomo è a terra... ... quattro militari lo controllano... ... si avvicinano dei migranti... ... un soldato cerca di fermarli... ... prima è solo un piccolo gruppo... ... poi accorrono alla rinfusa da ogni lato... ... tanti, troppi, persone... ... sei soldati... ... ed è subito il caos... ... scena di guerriglia urbana... ... pochi passi dalla stazione ferroviaria di Napoli... ... tutto ripreso dall'occhio vigile di uno smartphone... ... che dall'alto... ... documenta un vero e proprio accerchiamento... ... delle forze dell'ordine... ... il video viene postato sul gruppo Facebook... ... del comitato di quartiere... ... ed è subito virale... ... lui ha iniziato a dare delle tastate... ... in un distributivo automatico... ... che si trova... ... proprio dove c'è il video... ... loro per evitare... ... che si facesse male... ... l'hanno bloccato... ... appena l'hanno bloccato... ... sono accorsi tutti gli altri... ... insomma... ... extracomunitari della zona... ... gli extracomunitari hanno assaltato lo Stato... ... secondo me... ... e dopo hanno anche urlato... ... che loro dovevano andare via... ... perché l'Italia era loro... ... una cosa da brividi... ... l'uomo ha denunciato a piedi libero... ... a un marocchino di 34 anni... ... già noto alle forze dell'ordine... ... e fermato in evidente stato di brezza... ... per portarlo via... ... ci vuole l'intervento congiunto... ... di polizia, carabinieri e finanza... ... ma questo è solo l'ultimo... ... più eclatante di tanti episodi... ... qua c'è un totale degrado e abbandono... ... basti vedere... ... gente che dorme per strada... ... che bivacca per strada... ... urina per strada... ... defega per strada... ... bevono, si briagano... ... fanno rissa a qualsiasi ora della giornata... ... prima era un quartiere tranquillo... ... oggi non ci può stare più... ... io bisogna andare... ... sono andato via... ... perché avendo tre figli maschi... ... a stare in questa abbanda... ... e qua non ci poteva stare... ... un quartiere che vede sempre più massiccia... ... la presenza di stranieri... ... ed una convivenza invece... ... spesso difficile... ... qua ma ci ho partito... ... tutti i negozi stranieri sono... ... i negozi italiani... ... siamo rimasti in pochi... ... i negozi non pagano tassi... ... noi paghiamo tutto... ... dove ti mettono in condizione... ... che tu devi chiudere... ... loro devono rimanere... ... qua a vendere questa... ... questa spazzatura... ... e allora Napoli... ... città dell'accoglienza... ... o forse no... ... ci sono troppi stranieri... ... troppe gente di colore... ... di basso costo... ... che rovinano solo la nostra città... ... noi non siamo razzisti... ... noi chiediamo sicurezza... ... e legalità... ... è fallita... ... è un'accoglienza fallita... ... non va bene così... ... allora facciamo un giro di tutti su questo... ... Peter Gomez... ... ci sono due elementi in questa storia... ... che sono come dire curiosi... ... il primo... ... l'episodio è avvenuto... ... per chi non conosce Napoli... ... non nella estrema periferia della città... ... ma in centro... ... nei pressi della stazione... ... della stazione centrale... ... secondo elemento... ... non da poco è che era giorno... ... cioè era pieno giorno... ... non è la classica notte... ... a mezzanotte... ... quando in giro non c'è nessuno... ... pieno giorno... ... e vicino... ... in prossimità della stazione... ... quindi un posto anche con molte telecamere... ... Gomez... ... beh... ... la parola chiave la diceva... ... una delle intervistate... ... sicurezza e legalità... ... sicurezza e legalità... ... va garantita al di là del colore... ... della pelle... ... e della nazionalità... ... delle persone che intervengono... ... tu racconti giustamente... ... che arriva avvenuto in centro... ... in pieno giorno... ... di questo tipo di episodi... ... che riguardavano anche italiani... ... che si opponevano agli arresti... ... da parte delle forze dell'ordine... ... i tuoi archivi informatici... ... sono certamente pieni... ... e li ricordiamo... ... questo paese ha un problema grosso... ... di illegalità diffusa... ... è innegabile da questo punto di vista... ... perché se guardate quello che è... ... è interessante quello che accade a Milano... ... a Milano su 185 a 85 mila giovani... ... 85 mila sono stranieri... ... Milano è una città che sostanzialmente... ... non ha problemi... ... grossi problemi di integrazione... ... nemmeno tra comunità... ... di giovani... ... di nazionalità diverse... ... ma perché? ... perché in una città come Milano... ... per ragioni storiche... ... che conosciamo... ... la sicurezza e la legalità... ... viene normalmente garantita... ... in città come Napoli... ... dove per altre ragioni storiche... ... sicurezza e legalità... ... non vengono garantite... ... la convivenza diventa molto più difficile... ... diventa in sostanza per dirla... ... molto spesso una guerra tra poveri... ... Schirò... ... ci leghiamo da Napoli... ... e poi torniamo alla questione però... ... di apertura... ... cioè quella che riguarda le ONG... ... il controllo... ... gli sbarchi... ... e il controllo del territorio... ... abbiamo delle foto... ... prese dal satellite... ... magari lei ci può aiutare... ... ci può aiutare a capire... ... per cui già oggi... ... ci sono delle strumentazioni per individuare... ... forse dovremmo averle in grafica... ... tra qualche minuto... ... ci sono già dei modi per individuare... ... le rotte dei cosiddetti trafficanti... ... e tutto quello che avviene nel Mediterraneo... ... prima ancora del cosiddetto pattugliamento... ... lei fa parte della commissione... ... politiche comunitarie... ... politiche comunitarie... ... la ringrazio della domanda... ... sia un argomento interessante... ... perché... ... dobbiamo porci delle domande... ... dopo le ONG che... ... eccole qua... ... allora questo è in inglese... ... ma insomma... ... ci dice... ... che sono foto prese dal satellite... ... ci aiuti a spiegarle... ... non si vedo... ... eccole qua... ... sì infatti... ... è il monitoraggio degli app... ... dell'immigrazione... ... qui siamo in Niger... ... giusto? ... e sono foto prese dal satellite... ... ma questi satelliti... ... vengono utilizzati... ... anche per tracciare le rotte... ... dei trafficanti o no? ... quello che durante questo mandato... ... ho imparato... ... mi permetta di fare una premessa... ... per i telespettatori... ... noi abbiamo un sistema... ... formidabile in Italia... ... il Cosmos SkyMed... ... sono quattro satelliti... ... adesso verrà integrato... ... da altri satelliti... ... che girano in continuazione... ... uno dietro l'altro... ... ed è un sistema radar... ... questo che partecipa... ... a diverse operazioni... ... ovviamente viene usato... ... anche dai partner europei... ... poi esistono altri sistemi... ... come il famoso Copernico... ... con satelliti... ... però ci sono due di satelliti... ... scusate uno e due... ... che è ottico e termico... ... questo che cosa ci permette... ... l'immagine che lei ci sta mostrando... ... di fare un'ipotesi... ... questo è il Niger... ... sono gli apps in Niger... ... e sono anche cronologicamente disposti... ... quindi li vediamo vuoti... ... li vediamo crescere... ... li vediamo aumentare... ... pieni di persone... ... nell'ultima immagine... ... che un uso integrato... ... sulle rotte... ... sul monitoraggio... ... diciamo degli apps... ... prima dell'ultimo miglio... ... perché poi il viaggio in nave... ... in barcone... ... è l'ultima tappa... ... è l'ultima tappa... ... quando ormai è inutile... ... dopodiché dobbiamo anche discutere... ... di quello che succede... ... nei lager... ... però quello che voglio capire da lei... ... poi ci torneremo... ... ma quello è importante... ... questi satelliti... ... perché non vengono utilizzati? ... a questa è una domanda... ... a cui dovrebbero rispondere... ... altre autorità... ... però sicuramente... ... noi abbiamo... ... tutti gli strumenti italiani... ... ed europei... ... a disposizione del sistema Italia... ... che possono darci tutte... ... potrebbero darci le informazioni... ... è interessante... ... così lo spiegavo a chi ci ascolta... ... Gomez, Pinzolini... ... questa foto dimostra... ... e ci sono satelliti... ... che vengono utilizzati... ... dalle agenzie europee... ... e dall'Italia... ... che già... ... prima ancora... ... che queste navi partano dai porti... ... le possono individuare... ... dico corretto? ... ma prima che partano... ... dai paesi di origine... ... il problema è che noi... ... sappiamo qual è la politica... ... e vogliamo adottare... ... no però se... ... e aspetti... ... Gomez dice di avere una risposta... ... dice di avere una risposta... ... prego Peter... ... ma è molto semplice... ... guardate... ... il 90% della immigrazione africana... ... è una immigrazione interna... ... cioè da noi arriva solo il 10%... ... di quelli che si muovono... ... dai loro paesi... ... dalle loro zone più povere... ... per andare... ... nelle zone più ricche... ... ci sono interi stati... ... o interi regioni... ... che vivono su questo tipo di migrazioni... ... cioè non solo sulla migrazione... ... che arriva in Europa... ... ma di decine di milioni di persone... ... che si muovono... ... da una parte dell'Africa... ... dall'altra... ... c'è un'economia... ... che si regge... ... di interi stati... ... e di intere popolazioni... ... quindi noi possiamo anche monitorarli... ... sapere che il campo profu... ... qui sta lì... ... eccetera... ... poi dopodiché ci sono gli stati sovrani... ... che sono gli stati africani... ... che fanno passare la gente... ... in funzione dei loro interessi... ... dei loro interessi economici... ... lo ribadiamo... ... e lo stavate dicendo bene... ... dobbiamo renderci conto... ... che attualmente... ... nell'Africa subsarariana... ... il 45% della popolazione... ... ha meno di 18 anni... ... parliamo di centinaia... ... di milioni di persone... ... qua... ... più di forse 180 milioni di persone... ... vuol dire... ... che queste persone... ... nei prossimi 3-4 anni... ... incominceranno... ... ad avere... ... ad avere... ... 18-22-23-24 anni... ... cioè saranno in un'età... ... in cui vorranno... ... migrare per stare meglio... ... o in Europa... ... o in altri stati... ... di fronte a numeri... ... di questo tipo... ... è evidente... ... che o... ... si trova una soluzione... ... di tipo diverso... ... di lungo periodo... ... che non vuol dire... ... necessariamente... ... gli aiutiamo a casa loro oggi... ... e domani non vengono più... ... gli aiutiamo a casa loro... ... e forse fra 20-25 anni... ... incominceranno a migrare meno... ... o tornare indietro... ... esattamente come è successo in Italia... ... nel secondo dopoguerra... ... quando gli italiani partivano... ... per il nord Europa... ... dagli anni 50... ... agli anni 70... ... è questa la situazione... ... su questo... ... ovviamente ci torneremo... ... perché è il tema del momento... ... e ci terrà purtroppo... ... credo impegnati... ... per i prossimi mesi... ... visto che gli sbarchi... ... le rotte come indica... ... anche questa cartina... ... che abbiamo alle nostre spalle continua... ... ma continuiamo il nostro viaggio in Italia... ... e andiamo a vedere... ... questa storia incredibile... ... che vi avevo anticipato in apertura... ... la vicenda degli incendi... ... andiamo a Ragusa... ... con il nostro Antonio Condorelli... ... che ci racconta i vigili del fuoco... ... che non solo spengono gli incendi... ... ma sono gli stessi che li accendono... ... vediamo... ... ma che fai... ... gli doveva dare fuoco apposta... ... ma almeno c'era di guadagnare qualcosa... ... ma 10 euro l'ora... ... bruciavano i terreni... ... per ottenere il pagamento di 10 euro l'ora... ... stavolta i piromani... ... finiti nel mirino della squadra mobile di Ragusa... ... sono i vigili del fuoco volontari... ... di Santa Croce di Camerina... ... in 15 sono stati denunciati... ... in queste immagini... ... vediamo la squadra al completo... ... che tenta di spegnere un incendio... ... innescato pochi minuti prima da un complice... ... avevano messo a punto un sistema... ... ben collaudato... ... per fare scattare le emissioni... ... e ottenere i soldi... ... uno o due di loro si sganciavano dalla struttura... ... con i loro mezzi privati... ... in particolar modo utilizzavano il furgoncino... ... di quello che poi è stato arrestato di vita d'Avide... ... si allontanavano... ... appiccavano l'incendio... ... senza neanche fermare il loro veicolo... ... poi per allontanarsi... ... rientrare in caserma... ... ed aspettare che l'onesto cittadino... ... al momento in cui si imbatteva... ... diciamo, nel fuoco... ... ovviamente telefonava al 115... ... gli investigatori hanno intercettato... ... i vigili del fuoco volontari... ... mentre chiamano il 115... ... dopo aver appiccato un incendio... ... i magistrati stanno quantificando... ... il guadagno della banda dei vigili del fuoco... ... un dato è certo... ... i piromani portavano a termine... ... più missioni dei colleghi onesti... ... il turno indagato... ... in particolare interessato... ... dove hanno prestato il servizio... ... tutti e 15 indagati... ... è riuscito a effettuare 120 interventi... ... in un mese... ... a rispetto dei 30-40... ... delle altre squadre... ... se le hanno prese... ... e hanno fatto quello che hanno fatto... ... o hanno fatto solo bene... ... mi fa più rabbia... ... il disprezzo per la natura... ... e per le vite umane... ... perché ci potrebbero ingappare... ... delle persone... ... allora bene no... ... anzi male... ... insomma uno dei titoli più efficaci oggi... ... è quello di Libero... ... aspetta Sisto... ... lo mostro a favore di camera... ... sorprendente paradosso siciliano... ... dice... ... il quotidiano diretto da Feltri... ... gli incendiari sono i pompieri... ... arrestato un gruppo di vigili del fuoco... ... volontari che... ... appiccava roghi per lavorare... ... questo è sulle elezioni però... ... questo è come dice... ... è sulle elezioni siciliane... ... è su... ... sarcastica la nostra... ... sì può essere che sia anche quello... ... gara schierò... ... allora con la nostra Ilaria... ... buongiorno... ... e benvenuta... ... Ilaria... ... ci fa il punto... ... su tutti gli incendi... ... e le zone a rischio... ... però vedo che hai scelto... ... di aprire il tuo approfondimento con... ... con l'accant twitter... ... dei vigili del fuoco... ... proprio quello di cui parlavamo adesso... ... quello ufficiale... ... quello ufficiale esattamente... ... l'ultimo loro aggiornamento... ... che è di tre quarti d'ora fa... ... dice... ... 60 mila roghi spenti... ... fatti dai volontari di Ragusa... ... ci indignano... ... la strumentalizzazione pure... ... quindi oggi profilo chiuso... ... per rispetto ai vigili del fuoco... ... d'accordo... ... questa è un po' la risposta... ... a quello che è successo... ... che è successo in Sicilia... ... se poi però scorriamo... ... nei giorni scorsi... ... questa... ... sempre quest'account... ... ci risulta come un bollettino di guerra... ... perché ogni giorno loro aggiornano... ... tutti gli interventi che fanno... ... quindi... ... 1090 interventi il giorno prima... ... 616 il giorno prima ancora... ... ecco... ... attraverso questa pagina... ... in realtà... ... e il lavoro di tanti vigili del fuoco... ... che in realtà il loro lavoro lo fanno... ... si può vedere... ... qual è la situazione... ... la situazione italiana... ... noi qualche settimana fa... ... siamo stati sul Vesuvio... ... siamo stati a vedere... ... che cosa è successo... ... abbiamo accompagnato... ... gli uomini della forestaria... ... e dei carabinieri... ... nelle fasi di ripertazione... ... per andare a caccia di questi piromani... ... ecco... ... quello che noi abbiamo visto... ... era un cimitero... ... un cimitero enorme... ... possiamo vederlo nelle immagini... ... un cimitero di alberi... ... di decine di ettari di alberi distrutti... ... non solo alberi... ... perché ieri... ... ci sono state le prime due vere vittime... ... anche di questo... ... di questi incendi... ... a Chivoli... ... due donne sono state trovate... ... carbonizzate all'interno delle loro case... ... ecco... ... ma... ... quanti sono questi... ... questi incendi... ... lo vediamo nel cartello successivo... ... nell'ultimo mese... ... quindi... ... il disastro dell'incendio è iniziato... ... più o meno all'inizio di giugno... ... in un mese... ... da giugno a metà luglio... ... sono stati bruciati 26 mila ettari di boschi... ... che è praticamente tutto quello... ... che è stato bruciato nel 2016... ... lo vediamo poi... ... in una mappa successiva degli incendi... ... e vediamo che... ... senza entrare nel dettaglio di ogni regione... ... però le regioni più colpite sono... ... la Sicilia... ... come ci ricordava l'esempio di prima... ... la Campania... ... il Lazio... ... e poi la Puglia... ... ma chi poi va a cercare... ... i responsabili di... ... di questi danni... ... sono in parte i carabinieri... ... della Guardia Forestale... ... che come vediamo nel cartello successivo... ... nell'ultimo anno hanno arrestato 31 persone... ... ne hanno denunciate 400... ... l'80% di questi 400 denunciati... ... sono al centro sud... ... mentre gli altri al centro nord... ... vediamo qualche esempio... ... giusto per capire chi è il più romane... ... perché noi ci immaginiamo sempre... ... che sia magari un'organizzazione mafiosa... ... criminale... ... che ci sia un disegno dietro... ... molte volte in realtà no... ... sono magari dei pastori... ... come è successo ad esempio nel caso del Vesuvio... ... pensavano di ripulire i campi... ... guarda che immagini... ... esatto... ... pensavano di ripulire i campi... ... così che l'anno prossimo... ... l'anno 21 sarebbe stato molto più fertile il terreno... ... in realtà non è così... ... accendendo le serpaglie... ... hanno bruciato ettari e ettari di terreno... ... quindi c'è incuria... ... c'è ignoranza... ... c'è anche... ... molta... ... gli uomini della forestale ci hanno raccontato... ... che il 90% dei casi dei piromani arrestati... ... in realtà è un profilo anche intellettuale molto basso... ... cioè non c'è questa mente dietro... ... che cerca di regolare e indirizzare le piappe... ... ci manca anche l'aspetto criminale ci stai dicendo... ... cioè la volontà di procurare un danno... ... stiamo parlando sempre di isolo... ... e l'imputazione è di reato ambientale... ... che ti porta 20 anni e anche di più di carcere... ... che sono molti di più rispetto all'incendio... ... quindi sì... ... magari non è l'intenzione quella... ... però il dolo c'è lo stesso... ... vediamo qualche altro esempio... ... rapidissimamente... ... siamo andati ad esempio a Messina... ... a Messina è stato arrestato un ragazzo di 28 anni... ... una scena con una foto quasi apocalittica... ... sì, lo è assolutamente... ... qua un ragazzo di 28 anni è stato trovato con un'accendina in mano... ... e si annoiava... ... e ha dato fuoco alle serfaglie... ... per noie, per gioco... ... oppure nella foto successiva andiamo in Calabria... ... ecco questa è proprio l'immagine delle fiamme gialle... ... di un arresto... ... anche in questo caso... ... quest'uomo è stato trovato con una tannica vuota di benzina... ... i motivi possono essere odio contro l'amministrazione pubblica... ... oppure litigi tra vicini di casa... ... ecco la reazione è... ... ti brucio la... Castaldini, grazie Ilaria per questa carellata... ... davvero numeri impressionanti e... ... cos'è che colpisce di più di tutta questa... ... di tutta questa storia... ... al di là dei vigili del fuoco... ... che erano loro stessi i primi piromani... ... ma questo è il fatto che riguarda la storia di Ragusa... ... però diciamo è uno spaccato piuttosto inquietante... ... faccio una premessa importante... ... che quello e i dati che avete raccontato... ... e anche le storie che vi hanno raccontato... ... fanno un po' giustizia rispetto a certi vizioni dei giornali... ... che secondo me... ... così... ... cioè... ... beh io credo che... ... come dire criminalizzare i vigili del fuoco... ... in un momento storico come questo... ... dove dal 2007 di fatto non siamo... ... ma lei ce l'ha con libero... ... ma no ma dai ma ragazzi... ... adesso secondo me... ... chi fa politica deve avere un po' di serietà... ... i pompieri fanno i piromani per guadagnare di più... ... lei forse ce l'ha con libero per il titolo di ieri di libero... ... poi erano anche volontari quelli di Ragusa... ... il titolo di ieri di libero... ... ma no assolutamente... ... ma ci sta... ... in politica ci sta... ... però... ... come dire... ... spessare continuamente la fiducia... ... tra cittadino e istituzioni... ... tra cittadino e Stato... ... crea dei mostri... ... crea dei mostri... ... è evidente... ... per cui... ... che ci siano dei farabutti... ... all'interno di certe categorie... ... quelli vanno indagati... ... vanno messi in galera... ... ma i vigili del fuoco... ... dove tra l'altro io non ho avuto sempre rapporti... ... la cittadino non piace libero... ... ma questo è legittimo... ... no ma amo... ... amo... ... amo le divise... ... amo i vigili del fuoco... ... amo chi serve il nostro paese... ... anche da volontario... ... per cui è evidente che forse... ... all'interno dei volontari ci saranno due persone... ... che sono dei farabutti... ... e devono andare in galera... ... ma quello che fanno... ... quotidianamente questi uomini... ... sono degli eroi... ... e sono pensati così dal nostro paese... ... se poi andiamo avanti... ... per dire che... ... i politici non vanno bene... ... i vigili del fuoco non vanno bene... ... i medici non vanno bene... ... i medici non vanno bene... ... non sono ragazzi... ... la notizia in questo caso... ... quella che a lei un po' irrita... ... si potete anche girarvi... ... tipo cineforum... ... guarda che bello... ... bene... ... sono dei farabuti... ... allora giratemi pure... ... questa cesta è sedi rotanti... ... che l'azienda ci ha messo a disposizione... ... no però si può vedere anche lì... ... fuoco amico... ... poi uno può ironizzare... ... però la notizia è quella... ... i pompieri fanno i pompieri... ... per guadagnare di più... ... a Ragusa 15 volontari... ... appiccavano le fiamme... ... per poi... ... intervenire e incassare... ... l'indennità di 10 euro l'ora... ... cioè purtroppo... ... poi può piacere o non piacere... ... a lei quel titolo di libero di ieri... ... eccolo qui... ... torna a casa adesso... ... caro Elis... ... no sa cos'è... ... sa cos'è... ... che io... ... forse lei è arrabbiata... ... aspetti... ... no non sono arrabbiata per quello... ... perché in politica dopo 20 anni... ... ho imparato che sono... ... come dire... ... più pericolosi i polli in politica... ... che i lessi... ... preferisco... ... cioè preferisco onestamente... ... un titolo così... ... e ce ne sono tanti... ... mi dica un pollo in politica... ... no no non lo direi mai... ... perché sono una signora... ... un polletto... ... però secondo me i polli sono... ... un po' più pericolosi in politica... ... sono i polli... ... i polli di batteria... ... quelli che vengono allevati... ... per dire le stesse cose... ... a volte banalità... ... però insomma... ... quelli mi preoccupano di più... ... e chi è il polletto? ... i lessi... ... eh? ... i lessi... ... ah i lessi sono... ... ne ho visti tanti di polli da batteria... ... Gomez... ... Gomez... ... la vicenda... ... la vicenda degli incendi... ... c'è Peter? ... sì... ... sì ci sono... ... ci sono... ... sto seguendo... ... no ecco volevo capire... ... la vicenda degli incendi mi dicevi? ... no volevo capire questo... ... effettivamente questo... ... è una grande emergenza nazionale... ... in un paese... ... di Ragusa... ... sì... ... di Ragusa mi colpisce una cosa... ... poi prima di criticare... ... vorrei leggere le carte... ... ma è possibile che questi reati... ... fossero stati commessi... ... nell'estate del 2015... ... e sta gente viene presa due anni dopo... ... insomma è un po' grave... ... adesso immagino che la magistratura... ... avrà avuto tutti i suoi buoni motivi... ... però leggevo sui giornali... ... che gli episodi risalivano a due anni fa... ... evidentemente... ... l'altra considerazione che faccio... ... l'altra considerazione che faccio sugli incendi... ... è la seguente... ... noi abbiamo commesso... ... un grave errore di coordinamento... ... nel momento in cui abbiamo deciso di abolire lo Stato... ... il corpo forestale dello Stato... ... che è una cosa diversa dalle guardie forestali... ... da quelle che prendono tutti quei soldi... ... i quali sono entrati nei carabinieri... ... come al solito... ... per problemi all'italiana... ... oltre che cambiare le divise... ... lo sappiamo... ... molti dei mezzi... ... per esempio... ... antincendio del corpo forestale... ... per tante tante settimane... ... quest'estate non si sono potuti alzare... ... nella loro attività antincendio... ... appunto perché c'è stato... ... c'è stata la fusione... ... tra i due corpi... ... l'altra cosa che abbiamo saputo... ... è che questi 8 mila uomini... ... che facevano un lavoro di prevenzione importante... ... all'interno dei boschi... ... quest'anno... ... perché siamo arrivati alla fusione... ... quest'anno non lo hanno fatto... ... allora abbiamo la pubblicità... ... e torniamo tra pochissimo... ... scusami Peter... ... così riprendiamo anche questo... ... perché sono le 11.40... ... abbiamo un tasso attivo... ... ma pochissimi minuti... ... incollate al televisore... ... tra poco... ... per combattere il degrado di Roma... ... spesso i cittadini... ... si sono affidati al fai da te... ... olio di gomito e buona volontà... ... ora però potrebbero non bastare... ... sta destando qualche polemica... ... l'introduzione di un formulario... ... pubblicato sul sito della Comune di Roma... ... per tutti coloro che... ... occasionalmente... ... vogliono contribuire... ... alla manutenzione del verde cittadino... ... una richiesta di autorizzazione... ... allo svolgimento di attività di volontariato... ... scaricabile online... ... nella quale fornire dati personali... ... aree e modalità di intervento... ... e la stipula di un'assicurazione... ... per i volontari a copertura dei rischi... ... una procedura che... ... a detta delle associazioni... ... potrebbe scoraggiare l'iniziativa... ... dei volontari una tantum... ... siamo lungo le mura aureliane... ... in un tratto che è stato gestito... ... da un comitato... ... si è stato gestito dal comitato... ... mura latine... ... e d'ora in poi invece... ... per fare anche qualsiasi piccolo intervento... ... un singolo cittadino dovrà comunicarlo... ... 30 giorni prima... ... avere un'assicurazione... ... comunicare dispositivi... ... di protezione individuale... ... questo secondo noi scoraggerà... ... molti piccoli interventi... ... da parte delle persone... ... che abitano nelle immediate vicinanze... ... e che vogliono fare qualcosa... ... qui vediamo delle tag... ... anche in questo caso... ... per fare anche questo piccolo intervento... ... sarà necessario... ... seguire quanto stabilito determina... ... sul web il dibattito è acceso... ... tra chi trova legittima... ... la richiesta del comune... ... e chi invece esprime... ... qualche perplessità... ... in merito a quella che giudica... ... un'ulteriore burocrazia... ... non è possibile lasciare il cittadino... ... in balia del rischio di infortuni... ... anche se veri... ... si legge in una nota informativa... ... approvata dall'assessore... ... alla sostenibilità ambientale... ... Pinuccia Montanari... ... il cui contenuto... ... è stato diffuso anche sul profilo... ... Facebook dell'assessore... ... nessuna limitazione... ... alla partecipazione dei cittadini... ... per la manutenzione... ... e il decoro delle aree verdi... ... solo regole chiare... ... e uguali per tutti... ... e l'assicurazione prevista per legge... ... sul rischio di infortuni... ... per cui... ... per l'amministrazione capitolina... ... la polizza assicurativa... ... sarebbe a tutela... ... innanzitutto... ... di chi si mette a disposizione... ... della città... ... le attività promosse... ... da comitati e associazioni... ... hanno registrato... ... un certo riscontro... ... anche tra i negozianti... ... che da non associati... ... hanno deciso di portarle avanti... ... dopo un primo lavoro iniziale... ... abbiamo proseguito... ... con una manutenzione... ... giornaliera... ... che viene fatta appunto... ... dai ragazzi che lavorano qui... ... e... ... è una manutenzione che si... ... si fa tutti i giorni appunto... ... per cercare di mantenere... ... lo spazio pulito... ... eppure... ... tra i cittadini curiosi... ... di saperne di più... ... sulle modalità di volontariato... ... occasionale... ... delle aree verdi... ... c'è ancora chi manifesta... ... qualche dubbio... ... ma io vorrei però... ... conoscere l'iniziativa... ... più nei dettagli... ... no... ... anche perché ci sono... ... alcuni extracomunitari... ... ragazzi di colore... ... che spazzano le strade... ... di loro iniziativa... ... cioè loro lo possono fare... ... senza assicurazione... ... noi italiani dobbiamo avere... ... un'assicurazione che ci copra... ... se desanima la gente... ... e non fa niente già... ... quindi lei non scenderebbe giù... ... a pulire le viola... ... io definitivamente così... ... con questo sistema... ... non scenderei... ... anche qui... ... facciamo un giro rapidissimo... ... Schirò, Minzolini e tutti gli altri... ... cioè sembra come dire... ... una cosa degna di Kafka... ... o della più odiosa burocrazia... ... però forse in realtà... ... in questo caso... ... la Giunta Raggi ha anche... ... le sue ragioni... ... nel dire... ... se ci sono gruppi di cittadini... ... che si mettono insieme... ... c'è bisogno di avere... ... una copertura assicurativa... ... per i loro interventi... ... su strada... ... possono sembrare grandi paradossi italiani... ... però... ... no mi scusi... ... Orbella, Giunta Raggi... ... sembra come dire... ... il soggetto di una puntata dei Simpson... ... perché la Raggi... ... con la sua... ... come dire... ... eleganza e grazia siciliana... ... senza mai levore... ... però tira certe randellate... ... no ma... ... sa cosa... ... è una cosa che fa rabbia... ... perché... ... innanzitutto sono 18... ... cosa sono? ... 15 mesi... ... che ancora dobbiamo finire le nomine... ... primo... ... e quello sarebbe legittimo... ... per la città... ... ma nel merito... ... questa cosa... ... deve dire una follia... ... ma no... ... ma sa perché... ... innanzitutto vorrei vedere la delibera... ... che autorizza a domandare dati sensibili... ... alle persone... ... mentre ne facciamo una... ... dove nella stessa delibera... ... c'è l'apertura di Parco Arafat... ... e Piazza Toaf... ... cioè... ... c'è ignoranza... ... non capacità... ... non comprensione... ... delle comunità romane... ... insomma... ... c'è un mondo... ... e questa va in quella direzione... ... perché prima di domandare i dati sensibili... ... delle associazioni... ... ormai abbiamo perso tutti la pazienza... ... fai un'assemblea cittadina... ... in cui inviti le associazioni... ... e domandi... ... cosa hanno visto... ... cosa hanno fatto... ... che proposte hanno per la città... ... se hai coraggio... ... fai un'assemblea cittadina... ... e capisci i problemi... ... dopodiché... ... con chi sei... ... chi è disponibile... ... può anche registrarsi... ... ma in quel modo lì... ... sono dati sensibili... ... acquisiti da non sappiamo... ... è una complicazione... ... per me è un eccesso di burocrazia... ... guarda in ogni caso... ... rischi di scoraggiare... ... diciamo l'intenzione di chi... ... bene o male fa... ... tenendo conto... ... io ci vivo a Roma... ... la condizione di Roma... ... non ce la vedo però lei... ... Minzolini diciamo... ... non ce la vedo... ... ma non... ... lascia perdere... ... ma io non so se ci vedo... ... ma è chiaro che... ... una persona che fa un intervento... ... fa un intervento del genere... ... fa un intervento del genere... ... e tu gli poni un'ulteriore... ... diciamo serie di questioni... ... ecco tra il questionario... ... ma ripetisci cioè... ... sono anche legati... ... i rapporti un po' tesi... ... con il Movimento 5 Stelle... ... ultimamente no... ... cioè le cose no... ... qualche tweet... ... cos'è che ha detto... ... che ha scatenato l'ira di... ... di... ... ma io guarda... ... io ti dico francamente... ... ma lo faccio proprio... ... non c'è nessun elemento politico... ... anzi sono sempre stato detto... ... diamogli tempo... ... ho sempre detto questo... ... ma qual è la frase... ... eccolo qua... ... percorro strade dissestate di Roma... ... e mi domando perché... ... un incapace... ... virgola ignorante... ... virgola demente... ... abbiamo voluto fare il sindaco... ... eh disonestà intellettuale... ... ti dico una cosa... ... e non lo faccio io... ... caro Corbella... ... con le camera su Minzolini... ... posso dire una cosa... ... piano l'ascolto stretto... ... non per fare la regia... ... posso dire... ... parli lei... ... ah no... ... ma no... ... ma io dico... ... ma questo... ... io faccio un discorso... ... applauso... ... guarda Corbella... ... guarda Corbella come stringe... ... non faccio un discorso... ... solo sui 5 Stelle... ... io credo che sarebbe forse il caso... ... che quando uno si candida... ... era un tipo di carica... ... abbastanza difficile... ... e complicata... ... fare il sindaco di Roma... ... allora io ti dico francamente... ... io che non sono capace... ... non mi candiderei... ... quella secondo me... ... sarebbe un primo passaggio... ... non indifferente... ... per ritrovare un elemento essenziale... ... che manca nella politica di oggi... ... che è la competenza... ... cioè qui noi tutti possiamo fare tutto... ... ma non è così... ... devo andare in pubblicità... ... oppure faccio aiutare... ... però Gomes... ... l'ha appoggiata piano Minzolini... ... alla fine... ... nel giudizio su... ... su Rastizia... ... io credo... ... no ma di là del giudizio della Raggi... ... eh? ... al giudizio della Raggi... ... il principio della competenza... ... non è un principio sbagliato... ... pensate un po' a cosa è successo sugli F35... ... ieri la Corte dei Conti... ... ci ha detto una cosa... ... che scrivevamo da tempo in tanti... ... ecco abbiamo... ... stiamo spendendo il doppio... ... non ci stanno... ... non ci danno i posti di lavoro... ... che ci dicevano all'inizio... ... ma ormai è troppo tardi per tirarci indietro... ... questa storia degli F35... ... come nasce... ... a un certo punto anche il PD... ... ma anche credo Forza Italia eccetera... ... dicevano tutti... ... riduciamoli eccetera... ... 4 o 5 anni fa... ... dopodiché interviene un signore... ... che era l'allora Presidente della Repubblica... ... Giorgio Napolitano... ... che dice... ... fermi tutti... ... non potete votare... ... mozioni di questo tipo... ... se ne deve occupare il Consiglio di Difesa... ... che io presiedo... ... se ne ho... ... deve occupare il Governo... ... il risultato è... ... esattamente come il ragionamento... ... facciamo sulla competenza... ... ma siamo sicuri che Giorgio Napolitano... ... fosse competente... ... non fa una piega... ... e torniamo tra pochissimo... ... grazie agli ospiti... ... riprenderemo da qui... ... a tra poco... ... poi c'è il telegiornale... ... gli aggiornamenti... ... pubblicità... ... mambo... ... italiano... ... bombo... ... italiano... ... ore 12 in punto... ... tra poco vi presenteremo i nuovi ospiti... ... e in più super collegamento da Urbino... ... con il professor Vittorio Sgarbi... ... che ci accompagnerà in esclusiva... ... con le nostre telecamere... ... dentro questa mostra straordinaria... ... e quindi tra poco ci collegheremo con noi... ... ho prima visto delle... ... ecco qua... ... intanto vediamo Urbino... ... tra poco vedremo anche il professore Sgarbi... ... con questo straordinario cappello... ... piuttosto eccentrico in testa... ... va bene... ... ma a noi invece prima le cose serie... ... Adriana Bellini ti gira 7... ... buongiorno... ... buongiorno Davide... ... allora sicuramente anche oggi... ... un tema principale del nostro telegiornale... ... è quello dei migranti... ... che assume diverse declinazioni... ... perché da una parte ci sono... ... come avete già visto anche voi... ... le tensioni all'interno della stessa maggioranza... ... di governo... ... dove coesissono diverse vedute tra i ministri... ... però stamattina la Farnesina... ... c'è stato un importante vertice... ... tra il ministro degli esteri... ... Angelino Alfano... ... e l'inviato delle Nazioni Unite... ... Gassam Salame... ... che sta facendo il suo primo tour europeo... ... da quando ha assunto questa missione importante in Libia... ... quindi dalle Nazioni Unite... ... arriva al nostro paese... ... una sorta di benedizione... ... di approvazione... ... rispetto a quello che sono le politiche... ... del governo italiano in Libia... ... Salame ha detto... ... dove state andando... ... stiamo andando nella giusta direzione... ... mentre invece... ... il ministro Alfano ha detto... ... che a questo punto è proprio necessaria... ... una condivisione delle vedute... ... e soprattutto... ... il fatto... ... è necessario che le Nazioni Unite... ... prendano un po' la leadership... ... di questi negoziati... ... che finora non hanno portato... ... un granché... ... e per quanto riguarda i migranti... ... poi vedremo anche delle immagini... ... che sono abbastanza impressionanti... ... che ci arrivano dalla Spagna... ... dall'Anclav di Ceuta... ... al confine con il Marocco... ... dove questa mattina... ... un migliaio di migranti subsahariani... ... hanno tentato un assalto... ... per cercare appunto di entrare in Spagna... ... un assalto violento... ... che è stato represso... ... dalle forze dell'ordine spagnolo... ... ma anche marocchine... ... ci sono stati diversi feriti... ... insomma tutto questo a dimostrare... ... in quanto si tratti di un problema globale... ... che interessa molti paesi... ... poi andiamo negli Stati Uniti d'America... ... dove c'è un interessante documento... ... che è stato pubblicato oggi... ... dal New York Times... ... sul cambiamento climatico... ... ci sono diverse agenzie... ... con rispettabilissimi scienziati... ... che mettono in avanti... ... un allarme fortissimo... ... su quello che è il surriscaldamento... ... della terra... ... che dicono su basi scientifiche... ... è dovuto alle attività umane... ... sono stati gli stessi... ... sembrerebbe scienziati americani... ... a far trapelare... ... questo documento... ... questa bozza... ... ai giornali... ... al New York Times in particolare... ... per paura che tutto questo... ... possa venire insabbiato... ... dall'amministrazione di Donald Trump... ... che come è noto... ... nega che questi cambiamenti climatici... ... esistano... ... e ha deciso di voler anche uscire... ... dai trattati... ... che sono stati stabiliti... ... dal suo predecessore Barack Obama... ... a Parigi... ... dunque queste sono le nostre notizie principali... ... naturalmente parleremo anche di Venezuela... ... la tensione resta altissima... ... io vi do la linea... ... grazie Adriana Bellini... ... appuntamento alle 13.30... ... con il telegiornale della Sette... ... ci hanno raggiunto in studio... ... Raffaello Lupi... ... tributarista... ... buongiorno... ... salve... ... il terrore del fisco... ... al suo fianco... ... Walter... ... non le piace il terrore del fisco... ... no giurista... ... io occupo... ... di tutti gli uffici pubblici... ... quelli tributari sono uno... ... tutta la rabbia sua... ... non capisco... ... no mica mi arrabbio... ... sto dicendo... ... sicuramente... ... se non mi parla solo di tasse... ... Walter Verini... ... Partito Democratico... ... buongiorno... ... buongiorno... ... buongiorno... ... Massimo Blasoni... ... uno dei massimi esperti... ... di temi legati al lavoro... ... presidente del centro studio... ... di impresa lavoro... ... ben tornato... ... anzi... ... per fortuna rimane con noi... ... anche Augusto Minzolini... ... allora... ... andiamo... ... prima di vedere... ... questa vicenda... ... del Bancomat... ... dell'obbligo... ... per i commercianti... ... no... ... di avere il Bancomat... ... di pagare col Bancomat... ... il tema della tracciabilità... ... del denaro... ... per combattere l'evasione fiscale... ... si sta già arrabbiando Lupi... ... che c'è Lupi... ... no capite... ... no no niente... ... mi via da ride... ... niente... ... poi dopo ne parliamo... ... eh... ... forte Rubio... ... Urbino... ... allora... ... la nostra Ludovica Ciriello... ... la nostra Ludovica Ciriello... ... l'abbiamo mandata... ... con il professor Vittorio Sgarbi... ... speriamo che vada tutto bene... ... Ludovica buongiorno... ... guarda che meraviglia di immagine... ... bello... ... il bello della diretta... ... buongiorno Davide... ... sì... ... stiamo in... ... stai vedendo... ... ecco... ... senti... ... siccome qui abbiamo più le autorizzazioni... ... sai che lo Stato è diviso... ... comune... ... Stato... ... allora per fare questa ripresa... ... dovremmo avere un'autorizzazione... ... in realtà vedi... ... il più bel cortile del mondo... ... bellissimo... ... la più bella immagine del rinascimento... ... la città ideale che diventa reale... ... è al centro... ... un cavaturaccioli... ... messo da un direttore... ... che pensa di poter fare quello che vuole... ... perché non c'è lo Stato... ... lo Stato non c'è... ... quindi prendono lo scultore... ... anche importante... ... Tony Craig... ... che per ragione di mercato... ... trae beneficio... ... dall'essere al centro... ... di avere il cortile del mondo... ... e paghiamo noi... ... 50 mila euro... ... lo Stato paga... ... per mettere dentro quel cavaturaccioli... ... ecco il frutto... ... della riforma di Franceschini... ... sbagliata... ... per avere un direttore austriaco... ... in Italia... ... che dirige Palazzo Ducale... ... e non sapendo cosa fare... ... non conoscendo l'italiano... ... questo direttore... ... in questa piazza... ... lì c'è il mio ufficio... ... guardatelo... ... in questo palazzo meraviglioso... ... quello lì... ... quello davanti con le... ... cinque finestre... ... è l'ufficio dell'assessore della rivoluzione... ... che guarda e controlla... ... questo è il palazzo meraviglioso... ... con le pietre bianche... ... e i portali meravigliosi... ... e lì capisce anche un deficiente... ... che si entra... ... ci ha messo... ... ingresso... ... è in trance... ... è in trance... ... in trance... ... hai scritto ingresso... ... violando un'architettura del rinascimento... ... con una sovrintendenza cieca... ... che lascia scrivere una merda come questa... ... senza rispetto... ... per la storia... ... allora... ... scusi... ... è solo l'inizio questo... ... dobbiamo arrivare alle 13.30... ... ma come se non sapesse... ... come se non sapessi... ... siamo palazzo lucale... ... compenso per sapere cosa c'è dentro... ... hanno messo questo cartello... ... che sembra un cartello della pubblicità... ... della pasta... ... della pasta all'uovo... ... con i torricini di apertura... ... l'ogli... ... un scultore... ... un pittore con una certa delicatezza... ... e il ritratto ritrovato... ... di quella cosa il ritratto ritrovato... ... ci sono... ... lungo il percorso... ... almeno 200 cartelli pagati da noi... ... per indicare una mostra che deve andare a cercare... ... perché i cartelli si vedono bene... ... quando arrivi qui dici dove è la mostra... ... chissà... ... allora in compenso abbiamo risposto come... ... aspetta perché qui... ... sembra la guerra delle due rose... ... o sembra la guerra di Peppone... ... che non ho capito... ... ingresso principale... ... però non... ... sul portale... ... l'ingresso principale che loro hanno posto... ... però al di là di questo... ... mostra finalmente un manifesto... ... che si vede bene... ... il rinascimento segreto... ... che è un... ... sì David dimmi... ... no no ottimo... ... mi pare una partenza straordinaria... ... sembrate due adorabili turisti americani... ... una copia perfetta... ... e tra poco andremo a vedere... ... questa mostra straordinaria... ... grazie per questo inizio Vittorio... ... ci hai già... ... l'ingresso principale... ... rinascimento segreto... ... sì... ... ottimo... ... quello è l'ingresso principale... ... qualche piccola... ... segreto non se deve trovare... ... vedo che ci hai già portato... ... appunto in questa polemica... ... che tu fai... ... rispetto a come ti hanno... ... come dire no... ... allestito all'esterno la mostra... ... mi pare di capire... ... però... ... ci torniamo... ... ci torniamo... ... tra pochissimo... ... io intanto... ... cosa succede... ... va bene lì tutto... ... sì... ... è bella anche questa immagine... ... noi andiamo dentro... ... il braccio va bene... ... stai meglio professore... ... è un'installazione... ... il braccio dico... ... il braccio va bene sì... ... si... ... Ludovica è bravissima... ... devi sapere che fra due giorni... ... ci sarà qua a Durubino... ... la festa del Duca... ... il comune... ... ecco... ... la cosa più importante... ... per questa festa del Duca... ... in cui vengono 50.000 persone... ... ha dato come contributo... ... questa mostra di nascimento segreto... ... questa è la mostra istituzionale... ... della festa del Duca... ... bellissimo... ... si pagheranno 5 euro per entrare in città... ... cosa che mi sembrava discutibile... ... ma chi li avrà pagati... ... avrà 5 euro di sconto... ... per vedere la mostra di nascimento segreto... ... beh stupendo... ... allora pochi minuti... ... pochi minuti... ... e con il professor Sgarbi... ... la nostra Ludovica... ... entreremo a vedere questa mostra... ... in esclusiva... ... in diretta... ... all'area d'estate... ... prima però vi facciamo vedere... ... questo servizio interessante... ... di Peppe Ferrante... ... gli italiani allergici al Bancomat... ... seguiamo... ... ecco l'ingresso... ... vedete... ... anche con la camera sporca... ... vedi loro che entrano... ... magnifico... ... bello... ... grazie Corbella... ... bene... ... entrano nella mostra... ... e noi vi facciamo vedere... ... la polemica sul banco... ... ma poi torniamo da Sgarbi... ... lo stiamo a pagare col posto qua... ... che ne pensi del posto? ... per me è una scocciatura... ... lo so io c'ho il commerciante... ... che non è obbligatorio proprio... ... stiamo avanti così... ... ma c'è un po' qua... ... cioè con io... ... ho già un cavo rubito... ... che cazzo faccio io... ... ma questo barista il posto... ... dovrebbe averlo per legge... ... e il governo ha annunciato... ... che alla fine di settembre... ... arriveranno anche le multe... ... per chi non ce l'ha... ... andando in giro per la capitale... ... ci rendiamo conto... ... che pagare con il Bancomat... ... non è proprio semplice... ... il caffè lo posso pagare col Bancomat? ... no mi dispiace... ... non ci abbiamo il Bancomat... ... e ma da settembre ci saranno le multe eh? ... eh non lo sapevo... ... così faccio sapere al capo mio... ... posso pagare con il Bancomat? ... io non ce l'ho di Bancomat... ... eh ma è obbligatorio? ... è quello di obbligo... ... per legge... ... già oggi in assenza di post... ... il cliente può rifiutarsi di pagare... ... fino all'installazione... ... nell'esercizio del dispositivo... ... continuiamo a cercare un post... ... proviamo a pagare un caffè... ... con il Bancomat questa volta... ... ti posso pagare col Bancomat il caffè? ... non c'è mai un obbligatorio... ... nessuno mi fa il caffè con il Bancomat... ... vabbè... ... ok... ... le lascio il nome e cognome... ... e pagare quando... ... ho messo in l'arco... ... insomma il caffè ce lo offrono... ... ma questo post ai commercianti conviene? ... posso pagare anche 10 centesimi qui col Bancomat? ... sì... ... ma ti conviene? ... no... ... però è comunque a favore del cliente... ... il problema qual è però? ... che bisogna richiedere tutto? ... e va bene... ... tanto penso che è uguale... ... non è che... ... ci sia molto modo di sgabio... ... anche se non si usano i post... ... però c'è la commissione... ... eh certo... ... quant'è sul 2%? ... sul 2%... ... su... sì... ... nostalgia del contante... ... esatto... ... allora tra poco torneremo dentro questa straordinaria mostra... ... il nostro carondimonio Vittorio Sgarmi... ... ce la commenterà live... ... prima però con il nostro Michele... ... vorremmo andare a raccontarvi questa polemica... ... anzi questo excursus... ... tra bancomat o cash... ... o denaro contante... ... perché se... ... al contante e... ... soprattutto se l'utilizzo della moneta elettronica... ... è contrario al contante... ... limitasse l'evasione fiscale... ... e il riciclaggio di denaro... ... è stato un argomento che negli anni... ... ha diviso la politica... ... e ha acceso il dibattito politico a lungo... ... solo da 2007 ad oggi diciamo... ... sono quattro governi che hanno toccato il limite... ... per il contante per singola operazione... ... il primo è stato Romano Prodi... ... poi Berlusconi l'ha dovuto fare addirittura tre volte... ... Monti e Renzi... ... è stato cambiato spesso questo limite... ... anche sotto l'occhio attento dell'Unione Europea... ... che dal 2010 in poi... ... ha messo diciamo nel mirino... ... proprio l'uso del contante... ... possiamo passare al cartello successivo... ... e vediamo come innanzitutto... ... il prima del 2007 c'era un limite... ... fisso a 12.500 euro... ... che era stato stabilito nel 91 al governo Andreotti... ... e che serviva... ... e che 12.500 euro... ... è una cifra che è stata poi... ... diciamo ricalibrata con l'euro... ... equivalente per ogni singola operazione... ... il secondo governo Prodi nel 2007... ... decide di abbassare... ... di tagliare questo limite a 5.000 euro... ... è il periodo di Padoa Schioppa... ... Visco... ... vi ricorderete Visco Dracula... ... ed il rapporto diciamo... ... degli italiani con il fisco... ... è l'accusa che facevano gli altri al ministro Visco... ... perché... ... no Visco non era Dracula... ... non era Dracula... ... perché si chiamano riferire... ... non la prenderebbe benissimo diciamo... ... quindi prego... ... poi successivo... ... il limite fissato nel 2007... ... dura solamente un anno... ... perché poi il quarto governo Berlusconi... ... arriva a Palazzo Chigi... ... e riporta la sticella a 12.500 euro... ... perfetto... ... lo stesso governo Berlusconi però... ... è costretto a tradire tra virgolette i suoi principi... ... appena a due anni più tardi... ... perché proprio l'Unione Europea... ... possiamo passare al cartello successivo... ... impone all'Italia di limitare a 5.000 euro... ... l'utilizzo del contante... ... per combattere appunto l'evasione fiscale e il terrorismo... ... passiamo al cartello successivo... ... nel frattempo nel 2011... ... nel 2011... ... nell'estate della lettera di Trichet e Mario Draghi... ... il governo italiano... ... quella diciamo nella quale si minacciava la possibilità... ... di una troica in Italia... ... lo stesso governo Monti abbassa ulteriormente questa soglia... ... a 2.500 euro... ... e poi arriva in autunno Monti... ... che fissa l'utilizzo massimo del contante a 1.000 euro... ... siamo in piena austerità... ... l'Italia ha diversi problemi di finanza pubblica... ... per 4 anni resiste questo limite... ... questo limite montiano... ... fino a quando non arriva Renzi... ... che aumenta... ... incassando le critiche dell'opposizione interna... ... l'utilizzo del contante fino a 3.000 euro... ... possiamo vedere una clip... ... i contanti che è giusto che ci siano... ... in altri paesi non ci sono... ... ma c'è un'altra cultura... ... debbono essere portati a un livello medio... ... e accompagnati da misure di incentivo... ... alla moneta elettronica... ... allora se è vero che l'utilizzo del... ... aumentare i limiti del contante... ... è stato accompagnato da misure di incentivo... ... della moneta elettronica... ... non lo possiamo... ... non abbiamo una risposta in tasca... ... però vediamo che dal 2011 al 2016... ... l'aumento dei point of sales... ... è aumentato del 58%... ... ovvero sono stati... ... attivati 400 POS al giorno... ... sono dati la confesa del conto... ... Bancomat sostanzialmente... ... bene... ... grazie molte per il punto che ci hai fatto... ... facciamo un rapidissimo giro... ... poi torniamo alla mostra di Sgabbi... ... non so se vi si paga col Bancomat o cash... ... ma probabilmente con il Bancomat... ... Lupi... ... eccolo lì intanto... ... lo vediamo seduto... ... si vede... ... tra poco andiamo... ... perché... ... scusi Lupi... ... solo per vedere questa scena... ... poi tra poco torniamo... ... solo per farlo vedere un attimo... ... eccolo qua... ... tra poco... ... arriviamo da lei professore... ... un attimo eh... ... eccolo qua... ... Lupi prego... ... bellissimo... ... scusi... ... ma no ho capito... ... ho colto solo... ... come dire... ... un'espressione finale... ... Lupi... ... prego... ... sì... ... è uno psicodramma collettivo... ... cioè... ... se Vittorio... ... ci facesse un commento sul banco... ... Matt... ... cioè con la verve... ... che mette... ... per il palazzo ducale di Urbino... ... si potrebbe fare una metafora... ... delle illusioni... ... dei sogni... ... cioè... ... tutte quelle chiacchiere... ... di cui... ... Monti... ... i limiti del contante... ... mille... ... mille cinque... ... tremila... ... cioè... ... si vede proprio... ... la simbologia... ... la simbologia... ... portata... ... all'estremo... ... cioè... ... l'evasione fiscale... ... è rimasta quella... ... lei è il contrario... ... alla banca... ... ma tu no... ... questo non lo ho visto... ... io sono favorevole a capire... ... a spiegare... ... non mi importa... ... perché... ... è tempo perso... ... cioè andare a dire... ... non si potrà mai pagare... ... un caffè... ... sono stati molto bravi... ... ma anche molto provocatori... ... quelli che hanno fatto il servizio... ... perché se tu vai a pagare... ... un caffè col banco... ... Matt... ... l'architettura tecnologica... ... è ancora troppo arretrata... ... ti costa più di commissioni... ... poi la domanda è... ... ma tutti i bengalini... ... che aprono la frutteria... ... tutti i... ... gli ambulanti... ... se non mettono il banco Matt... ... tu sei in grado di controllarli... ... e farli chiudere... ... risposta no... ... altra grande illusione... ... che il banco Matt... ... crei magicamente... ... il sostituto d'imposta... ... non viene fuori... ... non si crea un sostituto d'imposta... ... che dice al fisco... ... non si potranno mai usare le banche... ... come grande sostituto d'imposta... ... tipo il padrone della Sette... ... che dice... ... a Davide Parenzo... ... gli ho dato... ... tot mila euro... ... così è facile... ... quando tu vendi le scarpe... ... con la bancarella... ... pure se c'hai il banco Matt... ... nessuno dirà al fisco... ... quindi non è vero che combatte l'evasione... ... adesso sentiamo Mirini e tutti gli altri... ... sgarbi... ... tanti però... ... no no... ... chiaro... ... l'obiezione è di sostanza... ... arrivo Verini... ... sgarbi che succede lì... ... prego... ... dove... ... no dicevo che... ... l'evasione per il caffè... ... per le piccole spese... ... è obbligatoria... ... il banco Matt è una ridicolaggine... ... di una struttura di controllo ridicola... ... uno ha diritto di pagare con la manetta contante... ... e posso raccontarti un aneddoto di molti anni fa... ... quando non correva ancora... ... banco Matt o carta di credito... ... raccontano che Sofia Loren... ... con un tratto di avarizia nobile... ... ogni volta che andava al caffè... ... pagasse con un assegno... ... per avere ovviamente il caffè... ... in cambio di un autografo che non veniva riscosso... ... questa mi parla la cosa ideale... ... se io firmo sgarbi... ... e per ogni caffè che prendo... ... nessuno cambierà quell'euro e venti... ... per avere il mio autografo... ... questa mi parla una cosa evolutiva... ... meravigliosa... ... però è vero... ... e se uno si rifiuta di prendere il contante... ... tu puoi dire... ... io non ho carta di credito... ... quindi non pago... ... è assurdo... ... è un meccanismo di uno Stato... ... che vuole controllare... ... quando leggevo ieri Berlusconi che dice... ... tra le novità... ... e le importanti iniziative del mio governo... ... c'è la patente a punti... ... ma che cazzo è un ricatto... ... per farti pagare con soldi... ... ulteriori un'altra patente... ... uno Stato liberale... ... non può commettere continuamente... ... controlli di ogni natura... ... perfino sul caffè... ... il caffè deve essere esentasse... ... ne compro quanti mi pare... ... tutti i giorni... ... li offro... ... li offro... ... quindi mi sembra... ... che sia una polemica ridicola... ... di uno Stato oppressivo... ... e fascista nella sua Stata... ... addirittura... ... che vuole controllare tutto... ... allora... ... se questo siamo davanti... ... ecco bravo sì... ... vediamo... ... Ludovica Ciriello e Vittorio Sgarbi... ... anche Ludovica Ciriello è un'opera d'arte vivente... ... ti voglio... ... ti voglio solo giusto... ... sì... ... sì sì prego... ... dimmi dimmi Ludo... ... vai... ... ti voglio solo giusto introdurre... ... un attimo sulla... ... sulla mostra... ... che si chiama Rinascimento Segreto... ... perché mette in luce... ... mi correga se sbaglio... ... alcuni autori che sono stati trascurati... ... negli anni... ... ma che vengono qui riproposti... ... come comprimari... ... rispetto ad altri grandi nomi... ... io vicino al microfono... ... una parola giusta... ... e siccome il Rinascimento Italiano... ... è molto bariegato... ... ed è una ricerca che si muove in ogni città italiana... ... come sintonizzati l'uno con l'altro... ... da Piero della Francesca a Antonello a Bellini... ... cioè dalla Sicilia... ... alla Toscana... ... a Venezia... ... ci sono autori cosiddetti minori... ... che in realtà sono comprimari... ... giusta parola... ... che si muovono in ogni parte d'Italia... ... qui siamo a Piacenza con il De Carro... ... e qui siamo a Ferrara... ... che vi è molto gara... ... col maestro di Casa Pendaglia... ... che è un maestro gotico... ... elegantissimo... ... che anticipa i grandi pittori che lavoreranno a Schifanoia... ... e faranno un rinascimento come quello di Piero della Francesca... ... a Urbino... ... e di Mantegna a Mantua... ... e le cose di questi ferraresi... ... che sono su queste pareti molto presenti... ... sono raffinatissime... ... guarda questo gruppo di angeli... ... che stanno cantando la gloria di Dio... ... che è nato... ... e che non ha intorno i pastori... ... ma ha intorno... ... un Sant'Antonio abatte... ... con una donatrice... ... una figura femminile di monaca... ... perché evidentemente questo era un quadro... ... che stava in un convento... ... per una monaca ricca... ... che aveva potuto avere un bel dipinto... ... di un maestro che si chiama adesso... ... pensa... ... delle Anconette Ferraresi... ... completamente sconosciuto... ... nato da poco... ... e lo chiamano col nome... ... questa è Anconetta... ... vuol dire una icona piccola... ... per il culto privato... ... in una cappella... ... dove stava evidentemente questa monaca... ... questa mostra è divisa in varie sale... ... che in qualche modo vanno avanti nel tempo... ... vanno avanti nel tempo e nella geografia... ... qui siamo nelle Marche... ... con Giovanni Di Nicola D'Alecanati... ... qui siamo in Romagna... ... vedi che sta sorprendendo abbastanza Romagna e Marche... ... e qui siamo a Visso... ... paese terremotato... ... da cui viene questo pittore raffinatissimo... ... con questo meraviglioso altare... ... con un altro tritichetto portatile... ... per destinazione privata... ... infatti... ... segreto vuole anche dire... ... quadri mai visti... ... perché sono oggi in collezioni private... ... in fondazioni bancarie... ... in istituzioni... ... e sono molto difficilmente visibili... ... mentre il Palazzo Ducale... ... vedi i quadri pubblici... ... qui vedi i quadri segreti... ... e qui abbiamo una parte invece... ... di autori di Centro Italia... ... abbiamo Nicolò Di Liberatore... ... detto l'alunno... ... con questa bellissima pietà... ... di cui vi farei vedere un particolare... ... che aggiunge al colore... ... quella che si chiama pastiglia... ... cioè le aureole... ... il fuoco delle candele... ... e i chiodi sono in rilievo... ... se ti avvicini lo vedi... ... ah che meraviglia... ... per dare il senso di una profondità... ... ancora più forte... ... sembrano quasi in tre dimensioni... ... quasi in 3D... ... quasi in 3D... ... questo quasi in tre dimensioni... ... per dare il senso... ... della profondità... ... attraverso le aureole... ... e questo bellissimo dipinto... ... di Alessio di Benozzo Gossoli... ... e l'adorazione di due... ... sì... ... chiudiamo con l'Italia centrale... ... qui siamo appunto tra Umbria... ... e Toscana... ... poi torneremo dopo... ... per la Verona eccetera... ... e qui vediamo... ... questi due bellissimi angeli... ... che adorano... ... l'Eucarestia... ... con una... ... come dire... ... l'ostia che vedete in alto... ... e questo calice meraviglioso... ... che diventa il simbolo di Cristo stesso... ... con il cherubino sotto... ... e... ... un intervento dell'Ottocento... ... ha determinato una scritta... ... con un salmo... ... che si legge qua sotto... ... quindi... ... sono quadri che hanno avuto una lunga storia... ... ma... ... vengono finalmente visti... ... uscendo... ... dalle case... ... dove sono stati protetti... ... per tanti anni... ... nel culto privato... ... e nel collezionismo... ... allora... ... noi torno in studio... ... devo dire... ... professore un applauso... ... perché ha ammaliato... ... ha coinvolto... ... poco lo studio... ... in questo suo grande racconto... ... e... ... ci torniamo tra poco... ... in un altro punto... ... della mostra... ... che meraviglia... ... che immagine... ... sto per due turisti a Urbino... ... bellissimo... ... allora... ... Verini... ... torniamo alle cose più terrene... ... diciamo... ... questo Benedetto Bancomat... ... no... ... perché la polemica di Sgarvi... ... ma anche quello che diceva poco fa Lupi... ... alla fine è vero... ... cioè... ... non si è combattuto più di tanto... ... non si è combattuto... ... l'evasione fiscale... ... in un altro momento... ... questo obbligo del POS... ... esiste nel nostro paese... ... fin dal 2012... ... ma non è stato mai... ... applicato davvero... ... mai sanzionato... ... mai sanzionato... ... stavo dicendo esattamente questo... ... adesso... ... il sottosegretario... ... ha annunciato... ... che da settembre... ... chi non si mette in regola... ... potrà essere sanzionato... ... beh... ... prima devono fare la legge... ... io sono... ... come dire... ... non sono un agliatollà... ... del fisco... ... e penso anch'io... ... che bisogna... ... come dire... ... avere un minimo di flessibilità... ... anche in questo... ... anche se... ... l'idea è qui su questo... ... non sono d'accordo con Sgarbi... ... che mentre è affascinante... ... mentre valorizza... ... quegli scrigni... ... che sono nell'Italia centrale... ... che lui sta... ... devo dire... ... mi permetto Parenzo... ... ho visto l'altro ieri... ... una mostra curata da Sgarbi... ... a Gualdo Tadino... ... adesso cita... ... il nostro Gossoli... ... e quindi Evoca Montefalco... ... questo viaggio a Orbino... ... ecco... ... io credo che bisogna... ... ringraziare davvero... ... Vittorio Sgarbi... ... per quello che sta facendo... ... per la valorizzazione... ... del patrimonio culturale italiano... ... e noi nel nostro piccolo... ... vogliamo mostrarvelo... ... nel nostro piccolo... ... detto questo... ... non sono d'accordo... ... sull'idea di una totale... ... deregulation... ... guardi Verini scusa... ... no... ... me lo fate vedere un secondo... ... in una posizione di relax... ... il professore... ... eccolo... ... stupendo... ... cioè un'opera vivente... ... è un'opera vivente... ... allora prego Verini... ... poi torniamo... ... non sono d'accordo... ... sull'idea che bisogna... ... andare verso una totale... ... deregulation... ... ecco... ... pur non essendo una... ... iatollà del fisco... ... perché... ... intanto... ... non è vero che uno Stato... ... che controlla... ... è uno Stato fascista... ... perché questi controlli... ... come si dice... ... ce li chiede l'Europa... ... in molti paesi europei... ... diciamo... ... culturalmente... ... in molti paesi... ... che ha un'impostazione liberale... ... all'americana... ... però aggiungi... ... però se in qualsiasi Starbucks... ... a New York... ... tu paghi col Bancomat... ... non è che siamo... ... in paesi... ... in paesi... ... in paesi non evoluti... ... finisco per dire che... ... quindi... ... senza esagerare con le regole... ... senza fare le dovute eccezioni... ... per esempio la CGA di Mestre... ... in queste ore dice... ... ma come si fa... ... a far avere il POS... ... al dipendente... ... la piccola azienda di elettricista... ... che va in casa a riparare... ... capisco... ... quindi con la necessaria flessibilità... ... ma l'idea... ... di rendere un po' più trasparente... ... un po' far emergere il sommerso... ... fare emergere il nero... ... non so se è finito... ... non è così... ... anche finito... ... finisco solo... ... anche con questi sistemi... ... io la vedo come un fatto... ... come dire... ... naturale... ... e che prima... ... al quale prima o poi bisognerà... ... di tuare... ... l'esempio di Starbucks... ... effettivamente ci sta... ... POSOI... ... pressione fiscale 42,5%... ... pressione fiscale reale 48,8%... ... sono dati rilevantissimi... ... che ci consegnano un paese... ... diciamolo... ... tra quelli più tassati al mondo... ... in Germania la pressione... ... intorno al 36... ... in Inghilterra 33... ... in Spagna 30... ... abbiamo provato a calcolare... ... con il nostro centro studi... ... quanto pagherebbero di meno... ... gli italiani... ... se pagassero con le aliquote... ... dei tedeschi... ... degli inglesi... ... o degli spagnoli... ... sono 90... ... 140... ... e 196 miliardi rispettivamente... ... io lo dico da imprenditore... ... c'è un report annuale... ... che si chiama... ... Doing Business... ... che stabilisce per esempio... ... la total tax rate... ... la pressione fiscale complessiva... ... sugli imprenditori... ... ci assegna il 62%... ... in Germania il 48... ... in Inghilterra il 30... ... usciamo dai numeri... ... la misura sul POSO... ... non risolve niente... ... perché il tema vero... ... è l'emissione o meno della fattura... ... se l'artigiano ti dice... ... paghi in nero e non paghi l'IVA... ... decidi se farlo o meno... ... e hai possibilità di sanzione... ... chiedendo la fattura... ... il tema dell'utilizzo meno del POSO... ... mi sembra abbia due aspetti... ... uno culturale... ... in Italia usiamo meno... ... che in altri paesi... ... la moneta elettronica... ... ma usiamo meno anche... ... la carta di credito... ... pensate questo... ... le transazioni online... ... l'anno scorso... ... hanno riguardato solo il 29% degli italiani... ... l'83% degli inglesi... ... e poi c'è lo Stato... ... chiuto orwelliano... ... che in realtà... ... non vuole solo combattere l'evasione... ... vuole tracciare il pagamento... ... vuole sapere... ... come spendi i tuoi denari... ... questo un po' mi spaventa... ... voglio citare solo una cosa... ... la spaventa perché? ... perché come diceva Sgarbi... ... una Stata di polizia... ... mi spaventa perché non mi tiro dello Stato... ... perché penso che debba ridurre il suo perimetro... ... perché la tassazione è eccessiva... ... perché ci sono gabelle su gabelle su gabelle... ... oggi in Italia... ... l'anno studiato... ... servono 240 ore... ... un medio imprenditore... ... un piccolo artigiano... ... solo per pagare le tasse... ... faccio una citazione conclusiva... ... perché è divertente... ... ti eri il fondatore di Paypal... ... lo strumento di pagamento su internet... ... ci dice una cosa carina... ... negli anni 70... ... ci avevano promesso le macchine volanti... ... le macchine volanti non sono arrivate... ... è arrivato internet in compenso... ... vastissimo... ... beh le macchine volanti sarebbero state composte di atomi... ... e lo Stato avrebbe potuto regolamentarle... ... i byte di internet invece sono meno regolamentabili... ... e internet è cresciuto... ... cosa vuol dire con una forzatura? ... che quando c'è troppa regolamentazione... ... quando c'è troppo stato... ... l'economia rallenta... ... altro è combattere l'evasione... ... ma l'evasione si combatte non obbligando... ... a far avere il post per il caffè... ... che mi sembra una sciocchezza... ... Sgarbi avrebbe usato... ... un termine più forte... ... adesso non... ... ma tra poco lo rivediamo... ... quindi sicuramente... ... secondo me è un errore... ... io parto da un presupposto che... ... mi sorride lei ad esempio il banco... ... ma quanto lo usa? ... usa più la moneta o...? ... no io uso spesso il banco... ... il problema è esattamente questo... ... facciamo un discorso serio... ... allora... ... quelle aliquote... ... sono veramente criminali... ... partiamo da questo presupposto... ... quindi un problema fiscale in questo paese esiste... ... anzi è uno dei primi problemi... ... va bene? ... però non scambiamo le due cose... ... perché se io voglio andare in un... ... qualunque diciamo esercizio... ... e voglio usare il banco... ... ma io la mia libertà... ... essendo io anche liberale... ... posso usarlo... ... è come se io voglio la toilette... ... cioè nel senso che noi stiamo in un mondo... ... in cui queste cose qui non dobbiamo scambiare... ... perché altrimenti... ... una questione fondamentale come il fisco... ... la traduciamo... ... la decliniamo in una cosa... ... diciamo che invece è molto più di servizio... ... allora non c'entra niente... ... diciamo l'evasione fiscale... ... quello non c'entra nulla... ... però è chiaro che in uno stato moderno... ... usare meno moneta corrente... ... anche per una questione di sicurezza... ... è un tema culturale... ... non di obbligo... ... infatti non è un problema... ... però il problema è che quindi ci sia un servizio... ... che venga... ... la possibilità a me che voglio pagare con il banco... ... di pagare... ... anche perché nessuno diciamo... ... deve fare il commerciante... ... perché gli ha chiesto il medico... ... quindi quello lì diventa un servizio... ... che deve essere... ... temporaneamente... ... non parliamo di altro... ... perché il problema centrale... ... sono quelle... ... sono esattamente quelle... ... c'è una parte di Stato... ... che vuole arrivare alla moneta elettronica su tutto... ... perché vuole il controllo... ... no però è vero che... ... c'è un tema... ... certo... ... però culturalmente... ... adesso torniamo poi subito da Sgarbi... ... è vero che... ... mentre negli Stati Uniti... ... qualunque cosa... ... tu la paghi culturalmente... ... con la tessera... ... e non giri con le monete... ... da noi la cosa... ... è molto... ... no no no... ... chiaro... ... Sgarbi professore... ... torniamo alle opere d'arte... ... abbiamo visto uno splendido... ... e posso non pagare... ... puoi non pagare... ... se non prendo il bando... ... però è chiaro che... ... non vorrei creare... ... scusate la vostra... ... calma calma... ... me lo dicono anche da dietro... ... allora non vorrei creare un nesso... ... tra il pagare... ... e le opere che vedremo qui... ... che ci riportano i famosi... ... 30 denari... ... no... ... quelli famosi che hanno fatto... ... come dire... ... la storia... ... vediamo un'opera straordinaria... ... e... ... professor Sgarbi... ... a lei la parola... ... prego... ... stiamo vedendo... ... sì... ... dove è andata professora? ... stiamo vedendo il San Sebastiano... ... del Perugino... ... che se non erro... ... il Perugino è uno dei nomi... ... forse più importanti... ... più conosciuti... ... qui a Palazzo Ducale... ... è importante... ... è un pittore grande... ... non è un comprimario... ... ed è il maestro di Raffaello... ... e noi abbiamo datato... ... quest'opera sconosciuta... ... che ha un'altra versione... ... in un museo... ... un grande museo... ... al 1490... ... quando Raffaello aveva 7 anni... ... però già qui si vede... ... questo paesaggio meraviglioso... ... che io ho ipotizzato fosse di Pinturicchio... ... un paesaggio lontano... ... con i monti azzurri... ... con quella pittura... ... nel dettaglio... ... con le piante dorate... ... questo riflesso di luce dell'alba... ... la speranza del cielo... ... che c'è sul fondo... ... e San Sebastiano in estasi... ... felice... ... perché anche se colpito... ... peraltro da una sola freccia... ... da una freccia... ... e anche quando sono più frecce... ... lui in qualche modo gode... ... perché questa è... ... la misura dell'estasi divina... ... e però... ... è diventato negli anni... ... il simbolo del mondo gay... ... perché viene colpito dalle frecce... ... e non soffre... ... e non muore... ... ecco scusa professore... ... quindi è una forma di masochismo... ... ti voglio chiedere... ... ti voglio chiedere... ... anzi lo chiede Minzolini da studio... ... mi pare di aver capito questa domanda... ... perché... ... il San Sebastiano ha questa mutante... ... cioè come dire... ... si vede un po' linguine quasi... ... no chiede Minzolini... ... giusto... ... questa è la domanda... ... lo diceva prima... ... io lo ho chiesto... ... il mondo con cui qui come... ... l'ambasciatore non porta pena no... ... però diceva Minzolini... ... si ha una forma quasi di preservativo... ... gli è venuta così... ... gli è venuta così... ... ogni volta il perizoma copre la parte... ... perché la sua nudità... ... fa sì che nel mondo cristiano... ... il nudo maschile... ... sia sdoganato... ... con un riferimento al nudo maschile di Apollo... ... l'Apollo cristiano è San Sebastiano... ... Apollo è la figura più bella... ... e noi abbiamo San Sebastiano... ... che è integro anche nelle ferite... ... ma la qualità del dipinto... ... oltre il paesaggio che indicavo... ... contro cui si proietta... ... il corpo nudo... ... gaudente invece che sofferente... ... è in questi fiori meravigliosi... ... che mostrano il rapporto... ... fra Perugino e Leonardo... ... quindi è un quadro molto importante... ... ma lei me lo indicava con molta attenzione... ... qui in questo blocco della mostra... ... in cui se ne vedono altri due... ... questo di un pittore domagnolo... ... che si chiama Gerolo Marchesi... ... di Cotignola... ... che inventa l'idea di un San Sebastiano... ... ma vedi anche lui tranquillo... ... sereno... ... occhieggiante... ... un po' effeminato... ... contro questo riquadro... ... che apre verso un altro paesaggio... ... un paesaggio pre-Raffaellesco... ... quando Raffaello... ... comincia a farsi sentire... ... mandando un dipinto a Bologna... ... che è la Santa Cecilia... ... qui si sente il momento... ... in cui sta per arrivare Raffaello... ... e c'è questo spazio prospettico... ... per cui lui sta a una colonna... ... con un pavimento... ... che ha sul fondo... ... una finestra aperta contro un paesaggio... ... e anche qui... ... il San Sebastiano richiama la metafora... ... delle figure che vengono particolarmente colpite... ... nella politica del nostro tempo... ... quindi può essere... ... a chi potremmo associarlo... ... a quello che oggi viene più maltrattato... ... rimane comunque Renzi... ... che risponde però con questa faccia... ... vedete... ... assolutamente tranquilla... ... la viene in pippo... ... diceva fate quello che volete... ... perché io sono Renzi... ... e qui c'è invece... ... ecco... ... giusto per riportare... ... di cui si conoscono quattro quadri... ... di cui due a Brisighella... ... che si chiama Bernardino da Tossignano... ... località vicino a Forlì... ... con un impianto ancora alla Piero della Francesca... ... molto geometrico... ... molto prospettico... ... Sant'Ena che tiene la croce... ... e un altro San Sebastiano... ... anche lui serenissimo... ... colpito dalle frecce... ... con un altro perizoma... ... però un po' più rigido... ... si vede che l'evoluzione da questa pittura... ... benché questo dipinto sia successivo... ... questo è un pittore con una mentalità... ... più legata a uno schema... ... come dire... ... più arcaico... ... e quando da questa immagine... ... un pochino sommaria... ... passi a quello di Perugino... ... ti accorgi che Perugino... ... è andato molto avanti... ... è arrivato a rappresentare un corpo compiuto... ... con una anatomia perfetta insomma... ... quindi è bello quest'angolo... ... in cui vedi tre tipi diversi... ... negli stessi anni... ... scoprendo... ... allora spostatevi... ... veramente una mostra... ... io ve lo dico... ... e qui li volevo dire... ... andate a vederla... ... noi ve ne stiamo dando soltanto un'anticipazione... ... andate a vedere... ... passate una bella giornata... ... a vedere questa mostra... ... vedremo altre stanze... ... dica professore... ... se poi vengono dall'undici al quattornici... ... cadono dentro la festa del Duca... ... di cui questa è... ... la mostra più rappresentativa... ... la festa del Duca offre spettacoli... ... offre incontri... ... offre sfilate... ... offre costumi d'epoca... ... però qui mostra... ... quello che il Duca poteva possedere... ... da Federico... ... a quelli che hanno vissuto questo palazzo... ... questa è una collezione... ... che poteva essere... ... pertinente al palazzo... ... e qui cominciano i miei amati ferraresi... ... allora i ferraresi li vediamo tra pochissimo... ... così ti dedichiamo il giusto tempo... ... il rapporto con Padova... ... allora ottimo... ... grazie professore... ... allora prendete una bella sedia... ... accomodatevi lì due minuti... ... e torniamo da voi... ... Minzolinia e altre curiosità da chiedere... ... professore... ... oltre al perizoma che ti aveva colpito... ... allora ci arriva... ... ci arriva intanto... ... una notizia da parte della Lega Nord... ... la Lega Nord attacca Mattarella... ... poi anche su questo... ... se Sgarbi ci sente... ... un piccolo commentino anche sull'attualità politica... ... glielo facciamo subito fare... ... dice Grimoldi della Lega Nord... ... è vergognoso che il presidente Mattarella... ... nel ricordare la strage di Marsinelle... ... paragoni gli italiani... ... che andavano a sgobbare in Belgio... ... o in altri stati... ... dove lavoravano a testa bassa... ... dormendo in baracche e tuguri... ... senza creare problemi... ... è vergognoso il paragone... ... con gli immigrati richiedenti asilo... ... che noi ospitiamo in alberi... ... con cellulari e connessioni internet... ... per farli bighellonare... ... nelle nostre strade... ... Verini... ... ma io guardi... ... quando sento queste cose della Lega... ... ho sempre un po' una reazione... ... di... ... non so come definirla... ... perché vede... ... quelle persone che fuggono... ... io ho due figli... ... e la lotteria della vita... ... ha fatto nascere i miei figli... ... in Italia... ... in Umbria... ... ma se la lotteria della vita... ... li avesse fatti nascere... ... nell'Africa subsahariana... ... con un'aspettativa di vita... ... fino a 18 anni... ... e se io sapessi... ... se fossi... ... vivessi lì... ... che i miei figli... ... non vivrebbero fino a 20 anni... ... che morirebbero di malaria... ... di fame... ... oppure peggio ancora... ... di massacri... ... beh... ... io... ... farei di tutto... ... per buttarli in quel barcone... ... e magari... ... provare a fargli attraversare... ... un tratto di mare... ... questo per dire... ... di che cosa parliamo... ... dopodiché... ... se dobbiamo dire... ... che l'Italia... ... non ce la fa da sola... ... a reggere questa roba... ... che l'Italia deve assolutamente... ... fare quello che sta facendo... ... venature razziste... ... xenofobe... ... sono inaccettabili... ... sono inaccettabili... ... una battuta soltanto però... ... c'è una differenza... ... che è evidente invece... ... c'è i nostri... ... che andavano a Marsinel... ... erano richiesti dai belgi... ... in quel momento... ... c'era bisogno di mano d'opera... ... e veniva richiesta... ... mano d'opera italiana... ... che arrivava legalmente... ... in questo caso... ... invece assistiamo a una forzatura... ... è oggettivamente... ... impossibile per noi... ... senza regolamentazione... ... accogliere un così alto numero di persone... ... in condizioni di forte disoccupazione... ... che è italiana dei nostri giovani... ... il problema... ... no vorrei finire... ... solo rapidamente... ... il problema non è quello... ... di essere o meno razzisti... ... però non voglio nemmeno... ... avere paura di non apparire... ... politically correct... ... ogni volta che dico... ... che esista una differenza profonda... ... i nostri erano richiesti... ... questi stanno arrivando... ... soprattutto con le scambottate... ... anche noi ne abbiamo bisogno... ... cioè Boeri... ... dell'Inps... ... io contesto l'affermazione... ... sommessamente contesto... ... le nostre pensioni... ... sono pagate anche dagli immigrati... ... ma scusate... ... ma non funziona... ... noi viviamo un sistema pensionista... ... con un criterio di ripartizione... ... quello che stanno versando... ... poi ci richiederanno... ... quello che ottengono in servizi... ... arrivando qua... ... invece lo conosciamo... ... i dati del DEF... ... ci dicono più... ... di 4 miliardi e mezzo... ... quest'anno... ... solo per le spese di accoglienza... ... però non è un problema contabile... ... diciamoci con franchezza... ... quello che non ci piace è questo... ... quello che non ci piace è questo... ... c'è un piccolo infingimento... ... qui si arriva... ... proclamandosi... ... richiedenti asilo... ... e si è al 90%... ... profughi economici... ... diciamoci le cose come stanno... ... cerchiamo una politica... ... equilibrata d'accoglienza... ... ma distinguiamo... ... quelli che andavano a Marsinel... ... perché richiesti... ... da quelli che vengono... ... con una qualche astenza... ... abbiamo la pubblicità... ... poi ritorniamo subito in diretta... ... ho proprio un tassativo... ... poi ritorniamo subito dopo... ... pubblicità... ... e anche Sgarbi... ... che ci continuano a far vedere la mostra... ... più altre novità... ... tra poco... ... sono capitate qui... ... personalità della letteratura... ... personalità della politica... ... qui si arriva... ... e si riceve un servizio che è esclusivo... ... non so starmi più... ... alza le mani... ... alza le mani... ... alza le mani... ... alza le mani... ... non sei ragazza immagine... ... no io sono una ballerina... ... ballo... ... al beach party... ... dalle 5... ... alle 7... ... siamo in Puglia... ... la regione con un primato... ... è la meta turistica... ... più ambita dell'estate... ... e queste sono le sue due facce... ... il lusso delle masserie da una parte... ... e le discoteche in spiaggia dall'altra... ... da Monopoli a Sud i Bari... ... a Gallipoli nel Salento... ... molto fatturato... ... molta ribalta... ... e qualche ombra... ... è vero che è stata affittata... ... questa spiaggia? ... sì sì... ... l'ho affittata io... ... non posso dire altro... ... il proprietario non si sbilancia... ... ma questo lido a Monopoli... ... a fine agosto... ... è stato riservato per Ivanka... ... la figlia del presidente Trump... ... che verrà con amici e familiari... ... ecco questa seconda indiscrezione... ... è la masseria presa in affitto... ... dalla famiglia Trump... ... perché piace ai VIP? ... perché è una Puglia vera... ... una Puglia autentica... ... in realtà lo sfruttamento turistico... ... ha prodotto qualche distorsione... ... le masserie ad esempio... ... sempre meno agrarie... ... sono state trasformate... ... in sofisticati ritiri esotici... ... con piscine... ... grazie all'inglese... ... ma è vero che è la capitale dello sballo questa? ... è la capitale? ... dello sballo? ... esattamente... ... Gallipoli... ... 20.000 abitanti in inverno... ... arriva a ospitare 2 milioni di turisti... ... ma ci si diverte molto? ... sì sì... ... sono dei posti... ... sono un sacco di locali qua intorno... ... si si droga? ... penso di sì... ... quanto spendete per una serata? ... ad esempio ieri il minimo era 150... ... in quanti siete? ... siamo 16... ... siete 16? ... dalle masserie alle case Pollaio... ... qui una casa su due è affittata in nero... ... stiamo soltanto 3 giorni... ... ci hanno visto 700 euro... ... non vi hanno neanche cambiato la lampadina? ... no... ... quasi solo... ... ok faccio... ... il turismo giovanile è un'attività redditizia... ... pensate... ... un lido come questo... ... in soli due mesi... ... fattura oltre un milione di euro... ... vendiamo musica... ... vendiamo bollicine... ... e vendiamo sorriso... ... musica... ... magica sperando... ... beh davvero brava la nostra Paola Moscardino... ... che ci ha raccontato un pezzo importante... ... di Vacanze degli Italiani... ... con questo affaccio... ... sulla Puglia... ... torniamo da Vittorio Sgarbi... ... quindi dal mare... ... alla cultura... ... ho avuto una gran fortuna Parenzo... ... sì... ... è apparso anche il sindaco di Urbino... ... ecco... ... il presidente della festa del Duca... ... che ha voluto dare alla città in questi giorni... ... questa mostra che è nata tre anni fa... ... per integrare con una prova di cultura... ... rispetto alla tradizione del palazzo... ... questa festa popolare in cui viene di tutto... ... si mangia, si beve, si festeggia... ... è una festa straordinaria... ... e noi abbiamo voluto dare la più strutturata... ... testimonianza della volontà del comune... ... di essere presente in un paese in cui normalmente... ... in una città in cui le mostre le fa Palazzo Ducale... ... con il suo ingresso... ... il comune per la prima volta ha fatto una grande mostra... ... di questa che stai vedendo... ... ecco il sindaco... ... e qui ti saluta il sindaco... ... ecco... ... buongiorno... ... le istituzioni sindaco... ... buongiorno... ... grazie... ... buongiorno... ... tre anni per organizzare questa mostra... ... è stato faticoso... ... sì... ... è stato faticoso organizzarla... ... perché... ... ci sono difficoltà col bilancio... ... parti di stabilità... ... il comune ha inteso in questo modo... ... tu prima lo ricordavi... ... stabilire quello che il Palazzo Ducale... ... non ha voluto fare... ... cioè un biglietto unico con la bella città di Pesaro... ... e la sua bellissima villa imperiale... ... i suoi musei... ... quindi questa mostra ha tre sedi... ... questa di Urbino... ... con prevalentemente le opere dell'Italia centrale... ... quella di Fano... ... con la scultura... ... in rapporto col mondo antico... ... rinascimento vuol dire... ... rinasce l'antichità... ... rinascimento... ... e Pesaro... ... dove c'è la più bella pala d'altare... ... di Bellini... ... grande pittore veneto... ... che ha determinato un'influenza... ... per cui molti artisti... ... anche romagnoli... ... sembrano pittori veneti... ... ecco salutiamo allora anche sì... ... bene bene... ... no no... ... vediamo le opere ora così... ... grazie... ... hai ragione... ... no volevo salutare anche il sindaco... ... che intanto si è defilato... ... benissimo... ... qui c'è il numero di Ferrara... ... ecco... ... la mia amata Ferrara... Ferrara certo... ... ha un pittore meraviglioso... ... che ho riscoperto io anni fa... ... che si chiama Antonio da Crevalcore... ... è il simbolo della mostra... ... è il simbolo della mostra... ... si vede questa bellissima Madonna... ... elegantissima... ... con un San Giovanni Battista... ... e dietro quest'altro santo... ... che potrebbe essere San Giuseppe... ... con questo bambino... ... con che sembra... ... con quest'aria... ... come fosse una scultura antica... ... che si comincia a rimuovere... ... ma bellissimi dettagli... ... dei tessuti... ... della... ... diciamo... ... dei costumi dell'epoca... ... e di questo tappeto meraviglioso... ... piegato... ... che divide... ... il cielo e la natura... ... dalla parte sacra... ... guarda questi bottoni straordinari... ... nel vestiario... ... questo pittore... ... mostra di aver dialogato... ... con il tuo... ... eh... ... Padovano Mantegna... ... è un'opera che nasce... ... nello spirito di Padova... ... poi... ... con questo... ... con questo collo un po' longilinio... ... questo vale... ... allungato... ... che ci potrebbe ricordare... ... beh... ... questa per essere un'opera ferrarese... ... perché a Ferrara c'è un gusto molto per la deformazione... ... per l'espressionismo... ... è una faccia molto classica... ... che richiama il mondo toscano... ... e quindi richiama la Boschi... ... insomma... ... l'idea di una bellezza femminile... ... oggettiva... ... qui invece passiamo... ... da... ... e quello vicino speriamo... ... però non è Lotti quello vicino... ... questo pittore che apre... ... qualche somiglianza... ... no dico... ... quello vicino non è Lotti però... ... quello vicino hai letto? ... no dico... ... quello vicino non è Lotti però... ... e questo è un'area un po' da Lotti... ... e qui andiamo invece all'inizio del Cinquecento... ... con un pittore che guarda... ... Giorgione e Perugino insieme... ... che si chiama Ortolano... ... i ferraresi hanno dei nomi meravigliosi... ... Garofolo... ... Ortolano... ... Scarcellino... ... Mazzolino... ... quindi da Ortolano... ... questo bel paesaggio puro... ... vai a Mazzolino... ... che fa questa composizione classica... ... che richiama un po' i grandi artisti tedeschi... ... come Dürer... ... anche Mazzolino è un pittore raffinatissimo... ... quando viene in Italia Burckard... ... nel suo viaggio in Italia... ... il Cicerone... ... dice i dipinti di Mazzolino... ... nella Galleria Borghese... ... nei musei di Roma... ... si vedono splendidi in distanza... ... perché sono come pietre dure... ... vedi che c'è come un effetto di intarsio di pietre dure... ... e qui hai la luce meravigliosa di Dosso Dossi... ... pittore grande come Raffaello... ... caspita... ... guarda questo paesaggio incandescente... ... infuocato... ... e Santa Paola... ... questo tra l'altro è un dipinto... ... bellissimo di questo pittore... ... nella sua maturità... ... poco dopo la morte di Raffaello... ... di cui lui è stato in qualche modo amico... ... proprietà del finanziere Micheli... ... che ha una collezione molto importante... ... e ci sono... ... ecco che... ... scusami il professore... ... perché poi la pubblicità... ... chiede Minzolini... ... come mai... ... c'è questo soltanto il piede... ... è tutta coperta... ... ma si vede... ... chiede Minzolini... ... soltanto un piede... ... quasi come dire no... ... non so... ... come diceva... ... è una curiosità pedofila... ... è una curiosità pedofila... ... in realtà il pittore deve dare il senso dello sviluppo del corpo... ... quindi lei sta come slanciandosi... ... qui indica la lettura... ... come se però dovesse cominciare a incedere... ... c'è un piede con la gamba retrostante... ... e l'altro avanzante... ... ma il motivo è semplicemente di armonia compositiva... ... rispetto alla forza del corpo... ... che è un corpo plastico... ... d'altra parte questo pittore genera... ... un pittore sconosciuto... ... che si chiama Amico Friulano... ... allora scusami professore... ... ho la pubblicità che è obbligatoria... ... torniamo tra pochissimo... ... ho la pubblicità... ... un secondo solo... ... chiudiamo con Ferrara... ... aspetta un attimo... ... chiudiamo con Garofolo... ... che è il pittore che più di tutti... ... guarda Ferrara... ... vedi come è cambiata l'arte ferrarese... ... da Crevalcore... ... guarda Raffaello... ... è un Raffaello ferrarese... ... Garofolo... ... Garofolo... ... Ortolano... ... Mazzolino... ... Scarsellino... ... nomi bellissimi... ... per pittori di grande raffinatezza... ... ottimo... ... ora linea alla pubblicità... ... torniamo tra pochissimo... ... rimanete con noi... ... mambo... ... italiano... ... italiano... ... bene allora di nuovo... ... di nuovo in diretta... ... abbandonata la mostra di Vittorio Sgarbi... ... abbiamo il grande sotto corona... ... buongiorno... ... le 13 in punto per il meteo... ... situazione interessante... ... ah... ... perché non ci sono nuvole sull'Italia... ... ma subito al di là del confine... ... è da questa mattina... ... che ci sono temporali che... ... vuol dire... ... bussano alla porta... ... e girano... ... si un po' si dissolvono... ... si riformano... ... però al primo momento non riescono ad entrare... ... la previsione... ... la previsione... ... delle piogge nelle 24 ore... ... però ci dà... ... a parte questa zona di maltempo... ... ma vedete che le zone alpine... ... quelle occidentali... ... e anche quelle centrali... ... qualcosa più o meno entra... ... quindi nel pomeriggio qualche fenomeno ci potrebbe essere... ... sulle altre zone non ci aspettiamo molto... ... giornata di domani... ... quindi siamo a mercoledì... ... questa instabilità... ... questo maltempo... ... perde consistenza... ... c'è qualche piccola zona gialla... ... cioè con forti quantità di pioggia... ... potrebbe essere qualche temporale... ... poi le zone di nord-est... ... qualche nuvola ce l'hanno... ... qualche pioggia... ... ma nel complesso le quantità sono piuttosto basse... ... c'è anche della nuvolosità... ... che arriva un po' da sud a sfiorare la Sardegna... ... ma qui insomma per vedere piogge... ... la vedrei un pochino azzardata... ... vediamo anche... ... la giornata di giovedì... ... in cui come vedete... ... è questa volta il nord-est... ... che avrà... ... temporali... ... e tempo molto instabile... ... parliamo sempre nelle 24 ore... ... però insomma le quantità sono significative... ... e qualche pioggia si affaccia anche sulle regioni centrali... ... qualche nuvola arriva al sud... ... insomma qualcosina comincia a cambiare... ... eppur si muove... ... eppur si muove... ... venerdì in effetti abbiamo di nuovo... ... una giornata in cui sicuramente il nord... ... almeno la parte centro-orientale ha molte nuvole... ... ha delle piogge localmente intense... ... qualche nuvola al sud... ... insomma è una situazione che... ... vediamo un'altra faccia di questa situazione... ... vale a dire... ... questa carta ci dà la variazione delle temperature... ... nelle 72 ore... ... se non vedete il contorno dell'Italia... ... è buon segno... ... perché l'azzurro sono tutte diminuzioni... ... quindi nelle prossime 72 ore... ... ci saranno diminuzioni delle temperature... ... che forse con l'eccezione delle estreme regioni... ... proprio la parte ionica... ... va dai 4 ai 6 gradi... ... molto di più anche potrebbe essere... ... in Sardegna... ... quindi si tende a tornare verso una situazione... ... abbastanza... ... come dire... ... normale per la soluzione... ... non è che fa freddo... ... anche perché sono talmente elevate le temperature... ... che scendendo un poco... ... torniamo a me là... ... però sostenibile... ... quindi si va verso un fine settimana... ... un pochino più... ... un pochino più tranquillo... ... le foto di oggi... ... e sono un po' per la serie... ... nuvole che sembrano qualcosa... ... questa ce l'ha mandata Antonio... ... dalla provincia di Torino... ... dice Eolo... ... che sta soffiando queste nuvole... ... se vi piace... ... insomma ci sta... ... però insomma assomiglia un pochino... ... chissà cosa sarà... ... l'altra invece che ci manda Laura da Firenze... ... c'è quest'ombra che sembra... ... l'ombra di un gatto... ... in un tramonto... ... e invece è proprio un gatto... ... e invece... ... pensavo una roccia... ... uno scoglio... ... grazie a... ... sotto corona... ... momento del faccia a faccia... ... con Walter Verini... ... Partito Democratico... ... salve... ... e... ... buongiorno... ... Giorgio Sorial... ... non Sorial... ... come viene... ... chiamato... ... costantemente... ... dalla... ... buongiorno... ... dalla Presidentessa... ... Boldrini... ... parlamentare del Movimento 5 Stelle... ... Bresciano... ... di origine giuziana... ... molto combattente... ... allora io... ... parleremo un po' di tutto... ... però vorrei partire con voi... ... con lei in particolare... ... apro da lei... ... da questa questione dei porti... ... e da questo dibattito... ... che c'è anche all'interno del governo... ... tra Del Rio... ... e Minniti... ... del provvedimento di Minniti... ... che cos'è che non vi piace... ... visto che molte delle posizioni... ... che poi Minniti ha trasformato... ... in regolamenti... ... in provvedimenti... ... sono cose che avete chiesto... ... anche voi da tempo... ... quindi cos'è che non vi piace... ... sono cose che avevamo chiesto noi... ... e poi sono state trasformate... ... in un regolamento... ... che però purtroppo... ... non è stato firmato da nessuno... ... cioè se il Ministro dell'Interno... ... italiano... ... non ha la credibilità... ... per farsi firmare... ... un regolamento... ... per la condotta delle ONG... ... nel Mediterraneo... ... perché rispettino... ... le regole del Mediterraneo... ... e perché rispettino le regole... ... che il Paese... ... si vuole... ... con cui si vorrebbe adottare... ... il Paese... ... per evitare le stragi... ... che continuano ad esserci... ... e per evitare questa crisi emergenziale... ... sull'immigrazione... ... il Ministro dell'Interno... ... non ha la forza... ... non ha avuto la forza... ... per farselo firmare... ... per farselo firmare... ... sì ma allora si prendono altre soluzioni... ... altrimenti si fa un qualcosa... ... ma a lei sembra normale... ... che il Ministro dell'Interno... ... del Paese che sta subendo... ... più di tutti in Europa... ... una crisi emergenziale... ... come quella dell'immigrazione... ... non riesca a farsi rispettare... ... venga deriso in Europa... ... e venga deriso... ... fino a mai anche dalle ONG... ... ma chi dice deriso in Europa... ... visto che l'Europa... ... è quella che come dire... ... ha suggerito... ... questo codice di regolamentazione... ... e l'ha approvato... ... deriso dall'Europa... ... perché l'Europa non ha dato nessun metodo... ... nessuno strumento... ... per fare in modo che le ONG... ... si dovessero vincolare a questo regolamento... ... ed è deriso in Europa... ... perché noi... ... l'Italia... ... sta vivendo una situazione emergenziale... ... sta vivendo una situazione critica... ... dal punto di vista dell'immigrazione... ... ma certi personaggi... ... hanno svenduto il nostro Paese... ... per un pugno di euro... ... e di poche settimane fa... ... la serie di dichiarazioni... ... anche a livello europeo... ... del fatto che... ... questa situazione emergenziale... ... dell'immigrazione... ... Triton... ... Frontex... ... e tutto il resto... ... ma chi è che ha svenduto... ... è stato svenduto da Renzi... ... per quel poco di flessibilità sui conti... ... che in realtà... ... è stata l'ennesima mannaia... ... sui conti pubblici italiani... ... Verini... ... questa è la situazione... ... ed è di fronte agli occhi di tutti... ... ma intanto... ... è normale che l'opposizione... ... faccia opposizione... ... no ma certo che è normale... ... però non è normale... ... né è giusto... ... come dire... ... falsare la realtà dei fatti... ... perché l'idea che il ministro degli interni Minniti... ... sia deriso in Europa... ... è tutta nella testa di Sorial... ... perché anzi... ... invece il lavoro di Minniti... ... è molto rispettato... ... e anche molto sostenuto... ... dall'Europa... ... dalla testa anche degli italiani... ... parlo di questa parte... ... che riguarda... ... la sottoscrizione del codice... ... non è vero che è stato sottoscritto da nessuno... ... lo hanno sottoscritto tre ONG importanti... ... tra cui anche Save the Children... ... si sta prestando a sottoscriverlo... ... un'altra ONG di grande peso internazionale... ... ci sono delle... ... una francese... ... ha tre ONG su centinaia di ONG... ... ci sono... ... parlo delle nove... ... che erano state convocate al Viminale... ... parliamo di questo... ... calcoli anche la You... ... l'altra ONG... ... qualche giorno fa cosa ha fatto... ... io personalmente... ... ritengo che... ... è una ferita... ... quella che è ancora aperta... ... nei confronti di Medici Senza Frontiere... ... un'associazione che io... ... stimo... ... che tutti stimiamo... ... per il lavoro che ha sempre fatto... ... aggiungo due cose però... ... la prima... ... secondo me è interesse anche delle ONG... ... cooperare... ... sia con la sottoscrizione del codice... ... sia anche in altre forme... ... per... ... come dire... ... smascherare... ... quelle... ... poche... ... ma ci sono... ... ONG... ... che usano... ... la loro credibilità... ... la loro sigla... ... per fare degli sporchi traffici... ... non mi riferisco ovviamente... ... a Medici Senza Frontiere... ... questo regolamento aiuta a fare chiarezza... ... può aiutare... ... e sarebbe importante... ... in una terra di nessuno se no... ... esattamente... ... ma perché è una legge... ... nella quale... ... gli interessi degli scafisti... ... e anche qualche collusione... ... come documentano alcune procure... ... e come documentano i fatti... ... e interesse delle ONG... ... che svolgono un ruolo fondamentale... ... farlo venire allo scoperto... ... ma non male che lo ammettete... ... ma la seconda cosa... ... ma ora che ci sono delle commissioni... ... perché lei si ricorda... ... lei si ricorda che noi abbiamo denunciato per primi... ... la situazione dei taxi, delle ONG... ... e abbiamo ricevuto degli attacchi... ... ti do atto... ... da parte del Partito Democratico... ... da parte di tutti... ... però ti do atto... ... nonostante abbiamo utilizzato delle parole... ... che erano scritte nere su bianco... ... sui documenti della procura... ... e siamo stati attaccati... ... finché poi non si arriva sempre... ... dal nostro Movimento 5 Stelle... ... è sempre così... ... la storia è sempre questa... ... ti chiedo scusa... ... siccome le parole spesso sono pietre... ... e voi al posto delle parole usate molto spesso... ... taxi ONG dei taxi del mare abbiamo detto... ... voi avete dato l'impressione... ... con quell'iniziativa di due o tre mesi fa... ... di voler mettere in un unico calderone... ... tutte le ONG... ... in una sorta di... ... perché poi oggi dimostrata... ... un'unico caldero... ... una sorta di criminalizzazione... ... inaccettabile... ... perché la gran parte delle ONG... ... svolgono... ... in maniera importantissima il loro compito... ... infatti dovrebbero sottoscrivere il codice... ... se non hanno niente da nascondere... ... la seconda è l'ultima cosa... ... io sarò Alice nel Paese delle Meraviglie Parenzo... ... però io non mi rassegno... ... all'idea che tutti... ... tutti... ... a partire da noi... ... ma mi riferisco a 5 Stelle... ... mi riferisco... ... diciamo anche al centro-destra più civile... ... non quello... ... come dire... ... rozzo... ... un tema come quello dell'emigrazione... ... che è un tema drammatico... ... che è un tema che riguarda centinaia di milioni di persone... ... che non finirà adesso... ... durerà vent'anni... ... dove c'è una insensibilità dell'Europa... ... dove non ci sono ricette... ... bene... ... su un tema come questo... ... io vorrei davvero... ... che si decidesse una moratoria di propaganda... ... di tutti... ... la vedo difficile visto che siamo in perenne Gabriele... ... visto che ci sono delle responsabilità... ... che hanno avuto il semestre europeo... ... non ho fatto niente... ... il ministro dell'interno è stato il... ... che oggi è l'estero è stato il peggiore in assoluto... ... il ministro non sta facendo niente... ... le responsabilità bisogna chiarire... ... l'opposizione... ... quello che sto per... ... non fare il provocatore... ... come ti capita sempre... ... ipocrisia... ... non fare il provocatore... ... ipocrisia... ... lo conosco... ... lo conosco... ... lei come dire... ... diciamo... ... alza spesso i toni insomma... ... dimmi una cosa... ... non avete responsabilità... ... il PD non ha responsabilità... ... nella situazione di immigrazione... ... però diceva Verini... ... io sto parlando di una cosa seria... ... non di propaganda... ... e mi rendo conto... ... lo vediamo tutti i giorni che è serio... ... però Verini diceva... ... lo vediamo... ... io sto dicendo una cosa... ... non si possono criminalizzare... ... le organizzazioni non governative... ... che in questi anni... ... si sono anche sostituite... ... a quello che è l'intervento... ... della Guardia Agostina... ... aiutando... ... questo è il primo aspetto... ... e il secondo... ... che su un tema come questo... ... ci vorrebbe uno spirito nazionale... ... ci vorrebbe credibilità... ... siccome l'Europa... ... a cosa andiamo avanti... ... a mia presenza... ... siccome l'Europa... ... siccome l'Europa... ... sta facendo da sempre... ... troppi orecchie da mercanti... ... da mercanti... ... allora bisognerebbe per esempio... ... che noi che... ... come dire... ... apparteniamo alla famiglia... ... chiamata socialismo europeo... ... Berlusconi... ... che appartiene alla famiglia... ... del Partito Popolare Europeo... ... loro che appartengono a varie famiglie... ... ma hanno diversi collegamenti... ... anche loro... ... con qualche... ... dove ci sono anche alcuni xenofobi... ... ma non importa... ... bisognerebbe... ... che ognuno... ... che ognuno lavorasse... ... per convincere l'Europa... ... in tutti i paesi... ... non ad alzare i muri... ... ma aiutare... ... chi è che sta in frontiera... ... chi è che sta in trincea... ... perché l'Italia... ... che soffre questo problema... ... non è per insipienza... ... ma è per il fatto che siamo lì... ... siamo... ... siamo nel Mediterraneo... ... a differenza di altri paesi... ... che ha detto su Alfano... ... campagna elettorale... ... va beh... ... c'è per tutti... ... vediamo... ... c'è Alfano che cerca... ... una sistemazione in ogni situazione... ... occhio che bicitofano a casa... ... e dice... ... se avete una poltrona per me... ... state attenti... ... Alfano è così... ... occhio... ... beh... ... ormai diciamo... ... anche questi comizi... ... sono diventati degli straordinari... ... happening... ... in cui diciamo... ... la battuta sagace... ... l'avete presa da... ... dal vostro leader... ... mi dica una cosa... ... mi dica se non è vero tutto ciò... ... mi dica se non è vero... ... che stiamo vivendo... ... un revival continuo... ... degli inciuci... ... fatti e finiti... ... a livello amministrativo... ... a livello regionale... ... e a livello nazionale... amministrativo... ... amministrativo perché l'abbiamo visto... ... nelle scorse amministrative... ... a Palermo... ... il PD è andato a braccetto... ... con Alfano... ... a livello regionale... ... perché sta succedendo... ... questa cosa... ... sono alleati al governo... ... sono alleati al governo... ... per noi... ... fa qualcosa... ... ma mi spiega come faccia essere... ... che oggi... ... a livello regionale invece... ... Alfano va con Berlusconi... ... scusi non era alleato col PD... ... vedi che è un miscuglio continuo... ... ma che è il problema del PD... governo e di Berlusconi che dice che è un solleato. Però è interessante, vi faccio capire una cosa. Questo che dice Alessandro è verissimo. Noi stiamo vivendo e rivivendo lo scambio delle poltrone per mantenere le posizioni. Allora, su Alfano una battuta. Alfano era il ministro degli interni con Renzi e non ha fatto niente dal punto di vista della situazione dell'immigrazione, pur essendo siciliano, pur sapendo molto bene lui la situazione dei porti siciliani e quello che c'è per esempio ad Augusta e non ha fatto niente. Ora sta agli esteri e agli esteri io non ho visto nessun successo del signor Alfano a livello degli esteri, se non quello di qualche video, andare in giro a parlare con gli altri ministri degli esteri e non riuscire nemmeno a comunicare con loro. E siamo in questa situazione, abbiamo un governo che è fatto di ministri di questa natura e poi si dice, ah ma bisogna collaborare, ah ma il Movimento 5 Stelle dovrebbe darci una mano e roba di questo genere. Movimento 5 Stelle, l'accordo con la Libia l'ha fatto Miniti, no? Quale accordo con la Libia? C'è un accordo con il governo libico, no? Sì, e Macron cosa ha fatto? Beh cosa ha fatto? Ha ricevuto anche lui i due contendenti della Libia, certo. Ma il governo italiano è stato preso in giro sulla questione libica. Il governo italiano, signor Parenzo, oggi viene preso sistematicamente... Viene preso sistematicamente in giro. Perché sulla questione libica, dove noi avremmo potuto avere un grosso approccio, vi faccio finire, vi faccio finire solo su questo, vi faccio finire su questo, e le dico anche cosa faremmo, innanzitutto sulla questione libica, dove il governo italiano e l'Italia avrebbero potuto giocare un ruolo fondamentale, ci siamo fatti prendere in giro, dai cugini francesi, dagli amici di Renzi, e ci ha preso in giro. Cosa avrebbe voluto fare? Lei cosa avrebbe fatto? In questo momento in Libia ci sono due entità completamente parallele e diverse. Serrai da una parte. Serrai da una parte. E in generale Haftar, come lei pensa dall'altra. E Haftar dall'altra. Che avrebbe fatto Soria al ministro degli interni? Perché non è stato il ministro degli interni italiano o degli esteri italiano a convocare entrambe le parti e fare quello che ha fatto Macron? Perché ci siamo dovuti far fregare il protagonismo alla situazione sul territorio importante per noi come quello libico, anche per questioni economiche, anche per questioni economiche. Non mi faccio sorprendere, non mi faccio sorprendere, non mi faccio sorprendere. Continuiamo a essere fregati dai francesi su tutto, sulla Libia, sulle nostre aziende in Francia e anche sulle nostre partecipate. Magari avesse fatto qualcosa alla Francia, magari il problema è che era solo propaganda anche quella di Macron. Io sto dicendo una cosa, io non esalto il lavoro dei governi, anzi ci sono stati fatti cose buone e anche limiti, ma io ho paura. Se andaste al ministero degli esteri voi, voi siete quelli che addirittura scambiate il Cile col Venezuela e austerlitz con massima delle situazioni da genere non possono succedere, non avete fatto di peggio e avete rubato. Meglio sbagliare la città che rubare i danni soldi alle manche. Bene, allora, ultimi minuti Verini, Sorial, il candidato premier che vi guiderà, se poi gli elettori lo vorranno, verso Palazzo Chigi, voi lo definirete a metà settembre, se non sbaglio, no? Verso fine settembre, sì. Ecco, ha visto che in questi giorni ci sono grandi polemiche sulla vostra piattaforma Rousseau, quella che dovrebbe, come dire, no, essere il vostro luogo nel quale avviene la decisione. Sono delle false polemiche, sono delle illazioni. La domanda non è questa, attacchi informatici, polemiche a parte ci sono stati che hanno messo un po' in crisi il sistema, la certificazione, il controllo, no? Non ci sono stati attacchi che hanno messo in crisi il sistema o il controllo del sistema, perché quei dati che sono stati riportati sono dati passati, che attualmente non sono nemmeno in atto e comunque sia, ben venga che ci siano anche eventuali ulteriori controlli per verificare se è tutto a posto. È tutto a posto da questo punto di vista e io voglio ricordare che Rousseau, che è una piattaforma operativa su internet, è il primo esempio mondiale di come i cittadini da casa senza pagare due euro per andare a votare o senza essere collegati direttamente al partito, possono fare delle scelte politiche importanti, possono studiare e comprendere le proposte di legge e possono, mi faccio solo finire, e possono anche in questa maniera incidere direttamente sulla politica senza fare in modo che siano sempre i soliti nomi e cognomi in Italia, da 20 anni a questa parte, a decidere le sorti del paese italiano. Una domanda diretta. Questa idea molto interessante e innovativa che voi avete portato, per cui chiunque può decidere e proporre delle leggi, non vi lascia anche molto in balia, come dire, del mainstream, del sentire comune? L'idea del governo è dire noi abbiamo una posizione e riteniamo che questa sia la cosa. Lasciare sempre il voto su qualunque cosa, per cui su qualunque tema decide chi ci guarda da casa, decide... è in realtà una falsa democrazia, o no? No, è la democrazia. La democrazia vuol dire il governo del popolo. Se il popolo è chiamato semplicemente a votare un nome, neanche più un nome, ma a votare una lista... Se le dicessero pena di morte, faccia finire, faccia finire, faccia finire, Parenzo, votare una lista, ok, al posto di votare un nome e poi non essere più considerati per cinque anni, che è quello che succede oggi in Italia, allora non è più democrazia, ma è il governo dei capi partito. Con Russo, invece, c'è democrazia, mi permette di dire, perché la riguarda direttamente. Lei ieri o l'altro ieri ha permesso che noi venissimo definiti in questo programma quattro zozzoni che fanno democrazia su internet. E si è messo anche a ridere, e si è messo anche a ridere. Io vorrei, semplicemente, glielo dico perché sono qua, glielo dico perché sono qua, che queste continue falsità, illazioni, bugie e insulti che riceviamo da mattina a sera, vengano fermati... lei si è messa a ridere... Vengano fermati, perché se lei è conduttore... mi faccio solo... guardi, perché sono qua e ce l'ho davanti. E se lei è conduttore, come è giusto che sia, io gradirei che queste cose non succedano, perché permettere... Ho detto, non vi rivedetevi il firmamento... Neanche noi, io l'ho visto, me lo sono riguardato una decennia di volte perché sono molto arrabbiato. Allora, non c'è chi sorride, per una battuta rispetto a quelle che ha fatto. Io se parlo vengo fermato e interrotto. Io se parlo vengo fermato e interrotto. Lei però, quella persona, non l'ha interrotta quando ha detto una cosa del genere, ha offeso non me, ha offeso milioni di italiani, che ha offeso milioni di italiani, quella persona nel suo programma, che votano e cercano di fare politica senza prendere un euro, senza aver rubato soldi a nessuno e senza soprattutto regalare soldi alle banche, cose che fanno i politici di oggi. Io la rinvito, mi piace Verini perché era solo per fatto personale, domani la rinvito in studio, anche da solo. Non so se posso esserci domani, ma un'altra volta sicuramente. Facciamo votare la rete se può venire in studio o no. Ma la rete vota su cose molto più importanti che la mia presenza in studio. Io la invito in studio da solo, rifacciamo la moviola di quello e se ho sbagliato chiederò scusa. L'ho detto a lei perché sono qua davanti a lei, purtroppo succede dappertutto. Linea alla rete, la rinvito quando vuole da solo a fare la moviola. Grazie mille. Ci vediamo domani, stessa ora, stessa rete lì nel telegiornale. Va bene. Te lo devo dire.